Giungono al monastero. Era venuta fuori una magnifica, tiepida, limpida giornata. Si era alla fine di agosto. L'appuntamento con lo Sarec era stato vissato subito dopo l'ultima messa, cioè verso le dodici e mezzo. I nostri visitatori non si dagnarono di venire in tempo per la messa e arrivarono giusti giusti quando si spegnevano i lumi. Arrivarono in due carrozze. Nella prima un elegante legnetto tirato da un'appariglia di lusso. Giunse Pieter Aleksandrovich Miusov con un suo lontano parente, un giovane sui vent'anni, Pyotr Fomich Kalganov. Questo giovane doveva iscriversi all'università e Miusov, presso il quale si trovava a vivere in questo periodo, faceva di tutto perché lo seguisse all'estero, a Zurigo o a Iena e là si iscrivesse ai corsi universitari e prendesse la laurea. Il giovane non aveva ancora preso una decisione. Era un tipo pensoso e distratto. In suo viso era piacevole, la complessione robusta, la statura abbastanza alta. Nello sguardo aveva una strana immobilità. Come tutte le persone molto distratte, era capace di fissarvi intensamente e a lungo e intanto non vedervi neppure. Tacciturno è un po' goffo, pure avveniva a volte, purché si trovasse, però da solo a solo, che si facesse di colpo straordinariamente loquace, irruento, pronto al riso, tanto da ridere Dio sa di che inezzie. Ma poi, con la stessa rapidità e bruschezza con cui era sorta, tutta la sua animazione si spegneva. Vestiva sempre assai bene, perfino con ricercatezza. Disponeva già di una certa sostanza e col tempo doveva entrare in possesso di una molto piungente. Con Agioscia erano rapporti amichevoli. In un decrepito, traballante, ma capace legno d'affitto, tirato da un paio di vecchi grigiastri cavalli che erano rimasti un pezzo indietro al legnetto di Musov, giunsero in porto anche Fyodor Paolovic e il figlio suo, Ivan Fyodorovic. Dmitry Fyodorovic, al quale fin da ieri era stata pur comunicata l'ora precisa, era in ritardo. I visitatori lasciarono le carrozze lungo il recinto, presso la foresteria, ed entrarono a piedi nel cancello del convento. Eccetuato Fyodor Paolovic, gli altri tre, a quanto pareva, non avevano mai veduto nessun convento. E quanto a Musov, erano forse trent'anni che non entrava neppure in una chiesa. Egli veniva guardandosi attorno con una certa curiosità, sfumata di compiaciuta disinvoltura. Ma, al suo acume d'osservatore, tolte le costruzioni chiesastiche ed abitazione, che del resto erano più che usuali, l'interno del monastero non offriva nulla di notevole. Stavano uscendo di chiesa gli ultimi ritardatari, togliendosi il cappello e facendosi il segno della croce. Alla gente del popolo si mischiava anche qualche forestiero di condizione più elevata, due o tre signore, un vecchissimo generale. Tutti costoro stavano nella foresteria. I mendicanti si accalcarono subito intorno ai nostri visitatori, ma nessuno gli diede niente. Solo Petruska Kalganov tirò su del suo pormonè una monetina da 40 centesimi. E, affrettandosi e confondendosi tutto, Dio sa perché, presto presto la ficcò in mano a una di quelle donnette dicendo rapidamente, spartiteveli un po' per uno. Nessuno dei suoi compagni gli fece in proposito la minima osservazione, cosicché non c'era proprio ragione che gli si confondesse. Ma lui, notando questo, si confuse peggio che mai. Era strano, tuttavia. Essi, come stavano le cose, avrebbero dovuto essere attesi, e forse anche con un certo riguardo. Uno di loro, recentemente, aveva cavato fuori un migliaio di rubli, e un altro era un ricchissimo possidente e una coltissima persona. Di tutti qui, sotto un certo rispetto, stavano a ricasco, per quella questione della pesca nel fiume, a secondo della piega che poteva prendere il processo. E invece, ecco, non una delle autorità del luogo che uscisse loro incontro. Mussof, distrattamente, guardava alle pietre sepolcrali che circondavano la chiesa, e stava per rilevare che con queste tombe dovevano essere costate salate ai parenti dei sepolti, se avevano voluto acquistare il diritto di seppellirli in tal santo luogo. Ma non rupe il silenzio, la semplice ironia del liberale gli si andava già trasformando quasi in collera. Diavolo, a qualcuno qui bisognerà pur rivolgersi, fra tutta questa confusione. Occorre decidersi, già che il tempo passa, disse gli a un tratto come parlando a se stesso. A questo punto gli si accostò un signore in età, alquanto calvo, che indossava un ampio soprabito estivo, e aveva un paio d'occhietti melliflui. Quindi, sollevandosi il cappello e sdolcinatamente succhiandosi fra le labbra la saliva, si presentò a tutta la comitiva come un possidente di Tula, Maximoff, in un baleno costui offrì i suoi servizi ai nostri visitatori. Lo tsarek Zosima vive nell'asceterio, in clausura stretta, a 400 passi del convento, di là dal boschetto. Lo so anch'io che è di là dal boschetto, diribette Fiodor Paulovic, ma il fatto è che la strada non ce la lamentiamo con precisione, è da un pezzo che manchiamo. Ma ecco, basta prendere per quel cancello e poi dritti per il boschetto. Per il boschetto. Avviciniamoci. Se vi fa comodo, anch'io, verrei io stesso. Ecco, per di qua. Per di qua. Vercarono il cancello e si misero per il bosco. Il possidente Maximoff, uomo sulla sessantina piuttosto che camminare, trotterellava di sbieco, rimirandoli tutti con una febbrile, quasi incredibile curiosità. Gli occhi si sporgevano un po' a fior di testa. Sapete, noi ci richiamo da questo Staritz per un nostro affare, notò Severo Mjusov. Noi abbiamo fissato, per così dire, un'udienza presso questo personaggio e quindi vi siamo grati, sì, che ci insegnate la strada, ma non possiamo invitarvi a entrare là con noi. Ah, io ci sono stato, ci sono stato, ci sono già un chevalier per sé. E il possidente fece a mezz'aria un bello schiocco con le dita. Chi è un chevalier? Domandò Mjusov. Lo Staritz? Eminentissimo Staritz? Lo Staritz? L'onore e la gloria del monastero. Zosima è uno Staritz, quello... Ma il convulso discorrere del vecchietto fu interrotto dal sopraggiungere di un monacello incapucciato di piccola statura. Pallidissimo e scarno. Fyodor Paolovich e Mjusov si fermarono. Il monaco, facendo loro un inchino, estremamente cerimonioso, col capo quasi all'altezza della cintura, disse... Il padre Egumeno, dopo la vostra visita all'asceterio, vi invita umilmente, signori, a recarvi a mangiare da lui. Vi aspetta fra un'ora, non più tardi. E voi pure. Si rivolse a Maximov. Vi sarò senza meno, esclamò Fyodor Paolovich, rallegrato straordinariamente dall'invito. Senza meno. Che volete? Noi abbiamo dato la parola di comportarci come si deve, qua dentro. E voi, Piotr Aleksandrovich, ci verrete? E come no? Oh, allora che sono venuto a farci, qui dentro, se non per vedere tutte queste usanze che hanno? C'è solo una cosa che mi dà pensiero, ed è proprio che mi trovo qui con voi, Fyodor Paolovich. Già, Dimitri Fyodorovich non si vede ancora. E sarebbe un'ottima cosa che non venisse affatto. Credete, credete forse che mi riesca piacevole tutto questo vostro pasticcio? E poi con voi, per il soprassello. Va bene, verremo a desinare. Ringraziate il padre Igumeno. Si rivolse al monacello. No, io ho l'incarico di condurvi fin proprio dallo Starec, rispose il monaco. E allora io, in questo caso, me ne vado dal padre Igumeno. Io, intanto me ne vado senz'altro dal padre Igumeno. Si fece avalbettare il possidente Maximoff. Il padre Igumeno in questo momento è occupato. Ma come voi preferite meglio, indeciso gli disse il monaco. Che razza di importuno, questo vecchiardo, commentò ad altavoce Miusov, mentre il possidente Maximoff trotterellava indietro verso il convento. Mi somiglia a Fonson, sbottò d'improvviso Fyodor Paolovich. Già, voi non sapete dire altro. Perché somiglierebbe a Fonson? Voi l'avete veduto, Fonson? Ne ha veduto un ritrattino. Vi somiglia, se non nei lineamenti, in un non so che di indefinibile. Proprio un secondo esemplare, spiccato di Fonson. A me, per riconoscere certe cose, la fisionomia mi basta. Già, sono cose che voi ve ne intendete. Soltanto badate, Fyodor Paolovich. Orora voi stesso ricordavate che noi abbiamo dato la parola di comportarci come si deve, non è vero? Vi raccomando, frenatevi, che se cominciaste a fare il buffone, sappiate che io non intendo che qui mi si metta in un fascio con voi. Vedete che tipo è questo? Si rivolse il monaco. Ci credete che io tremo con lui a presentarmi a persone di riguardo? Sulle pallide, esanguilabili del monacello, apparve un sottile, silenzioso sorriso. Non privo di scaltrezza nel suo genere, ma egli non rispose molto, ed era fin troppo evidente che si asteneva dal parlare per un senso della propria dignità. Mewssef agglottò il viso peggio che mai. Oh, che il diavolo si riporti tutti. Forme esteriori sì, frutto ad un'elaborazione di secoli, ma in sostanza, nient'altro che ciarla taneria e assurdità, gli guizzò nel cervello. Ecco l'asceterio, siamo arrivati, proruppe Fiodor Paolovic. Il recinto e il portone stanno aperti, e si diede a tracciare gran segni di croce innanzi ai santi, raffigurati sul portone e di lato a questo. Nel convento altrui non s'entra con la regola propria, proverbiò egli. In tutto, qui, nell'asceterio, sono venticinque santuomini a far penitenza. Si rimirano l'un l'altro e ingollano la zuppa di cavoli. E non c'è caso che una donna entri in questo portone. Ecco qual è la cosa che colpisce di più. E c'è poco da dire. Sta effettivamente così. Com'è, però, che io ho sentito dire che lo Starec riceve delle signore. Si girò d'improvviso al monacello. Donne del popolo ci sono anche adesso là fuori, che aspettano presso la veranda. E per le signore di gran riguardo sono preparate qui dal lato della veranda, ma fuori della clausura, due camerette. Ecco, proprio queste finestre. E lo Starec, quando la salute glielo permette, vi si reca per un passaggio interno. Si intende sempre fuori della clausura. Anche ora, per esempio, c'è una nobile donna, una possidente di Ciarcov, la signora Kochalov, c'è ad aspettare con una sua figliuola malatizia. Probabilmente ha promesso che andrà a trovarle, sebbene in quest'ultimi tempi sia così indebolito, che anche alla bassa plebe, di rado, si fa vedere. Ah, dunque un sotterfugio infine c'è per scivolare dall'asceterio fino al signore. Non crediate mica, Padre Santo, che io alluda a qualche cosa? Non faccio che constatare un fatto. Sapete che sul lato, forse voi lo avrete sentito, non solo, non sono ammesse visite femminili, ma non sono assolutamente ammesse creature di nessuna specie che siano di sesso femminile. Galline, tacchine, vitelline. Fiodor Paolovic, io torno indietro e vi lascio qui solo, e quando non ci sarò più io, vi metteranno fuori per un braccio. Ve lo avviso fin d'ora. Ma non so che disturbo io vi dia, Fiodor Aleksandrovic. Oh, guardate, e do a un tratto sgambando dentro al ricinto dell'asceterio, guardate qua, in che valle di rose vivono costoro. Effettivamente, benché ora le rose non ci fossero, c'erano però una quantità di rari, magnifici fiori d'autunno, in tutti gli angoli in cui era stato possibile piantarli. Erano affidati evidentemente alle cure amorose di una mano esperta. Le aiuole erano sistemate nei recinti delle chiese e fra le tombe. La casupola, in cui si trovava la cella dello Starec, tutta in legno e a un sol piano, con una veranda all'ingresso, era pure circondata di fiori. Ma era tutto così sotto lo Starec precedente, Varsonofi? A quello le raffinatezze si dice che gli piacessero poco. Saltava su, pegliava abbastonate perfino il gentil sesso, notò Fiodor Paulovic, salendo la scaletta d'ingresso. Lo Starec Varsonofi sembrava realmente alle volte un po' bizzarro, ma sul conto di lui girano anche molte sciocchezze. Col bastone, poi, non ha mai picchiato nessuno, ribatte il monacello. Adesso, signori, aspettate un minutino, debbo annunciarvi. Fiodor Paulovic, per l'ultima volta vi rammento i patti, ascoltatemi. Comportatevi bene, altrimenti me la pagherete. Ebbe modo di mormorare ancora una volta a Mjusov. Non posso capire perché vi facciate prendere da tutta questa agitazione, beffardamente rilevò Fiodor Paulovic, a meno che non abbiate timore dei vostri peccati. Sapete bene che lui, a quanto dicono, già dagli occhi conosce che cosa abbia dentro chi viene a trovarlo. Ma poi, quanto peso date all'opinione di costoro? Voi, un parigino di questa fatta, un signore così evoluto. Credete che mi fa proprio meraviglia, dico la verità. Ma Mjusov non fece tempo a ribattere a quel sarcasmo. Furono invitati ad entrare, ed egli entrò alquanto irritato. «Hm, io già mi conosco. Sto irritato. Attaccherò lite. Comincerò a riscaldarmi, e così avviglierò a me stesso le mie idee», gli balenò alla mente. Un vecchio buffone. Essi entrarono nella stanza, quasi a un tempo con lo Starec, il quale a loro apparire si affacciò dalla sua camera da letto. Nella cella si trovavano già, in attesa che lo Starec uscisse, due ieromonici dell'asceterio, uno dei quali era il padre bibliotecario, l'altro padre Paisi, uomo di malferma salute, benché tutt'altro che vecchio, ma in fama di grande erudizione. Oltre a costoro c'era lì ad aspettare dritto in un cantone, e così dritto poi rimase sempre, un giovanottino sui ventidue anni, in soprabito borghese, seminarista e futuro teologo, che la comunità dei monaci aveva qualche ragione di proteggere. Era costruito di statura abbastanza alta, fresco in viso, largo di zigomi, con due stretti occhi color nocciola, intelligenti e ben svegli. Quel viso esprimeva una profonda deferenza, ma in modo perfettamente corretto, senza visibile ricercatezza. Gli ospiti che entrarono non furono da lui neppure ossequiati con un inchino, come se egli si considerasse non un loro eguale, ma una persona soggetta e dipendente. Lo starezzosima entrò, accompagnato da un discepolo e da agli osce. I due iaromonaci si levarono e lo ossequiarono con un profondissimo inchino, tanto che con le dita sfiorarono il suolo. Quindi, presa la benedizione, baciarono la mano di lui. In partita loro la benedizione, lo starezzosima rispose a ciascuno con un inchino altrettanto profondo, da sfiorare con le nocce e la terra, e a ciascuno chiese la benedizione anche per sé. Tutta la cerimonia si svolse nella più gran compunzione, in modo ben diverso da una qualsiasi formalità quotidiana, anzi quasi con un certo commosso calore. A Musov, però, sembrò che tutti quei gesti fossero eseguiti con un'unzione artificiosa. Egli stava là, innanzi a tutti gli amici con i quali era entrato. Sarebbe stato conveniente, e anzi ci aveva pensato fin da iersera, indipendentemente da qualsiasi convinzione, e per nient'altro che per pura cortesia, già che insomma qui erano queste usanze, appressarsi allo Starich e prenderne la benedizione. Almeno la benedizione, seppure non baciargli la mano. Ma adesso, a vedere tutte quelle riverenze e quegli sbaciucchiamenti dei due ieromonici, egli, da un istante all'altro, mutò d'avviso. Grave e compunto, fece in istile di società un inchino piuttosto profondo, e si discostò in atto di sedersi. In identico modo, si regolò Fyodor Pavlovich, che nel frangente batò ad imitare come una scimmia, punto per punto, Mjusov. Ivan Fyodorovich, dal canto suo, si inchinò con molta gravità e correttezza, ma anche lui tenne le mani lungo le cuciture dei calzoni. E quanto a Kalganov? E quanto a Kalganov, sarà confusa tal segno che non si inchinò per nulla. La Starec lasciò ricadere, già alzata per benedire, la mano, e inchinandosi a loro una seconda volta, li pregò di sedersi. Il sangue avvampò le gote di Alyosha. La vergogna lo invase. S'avveravano i suoi cattivi presentimenti. La Starec sedette sul cuscino di cuoio ad un divanuccio di mogano, d'assai antica fattura, mentre faceva accomodare gli ospiti, tranne i due ieromonaci. Lungo la parete di fronte, tutto il quartetto in fila, su quattro sedie pure di mogano, coperte di logora pelle nera. I due ieromonaci si sedettero ai lati, uno verso la porta, l'altro verso la finestra. I seminarista, Alyosha, e il discepolo, rimasero in piedi. Nell'insieme la cella era assai angusta, e aveva un aspetto squallido. Oggetti immobili erano grezzi, poveri, limitati allo stretto necessario. Due vasi di fiori sulla finestra, e nell'angolo molte icone. Fra queste, una madonna di grandi dimensioni, che risaliva probabilmente a un'epoca di molto anteriore allo scisma. D'innanzi le stava accesa una piccola lampada. Le tenevano compagnia due altre icone, splendenti di guarnizioni metalliche, e intorno intorno statuine d'angioletti, piccole uova di porcellana, una croce cattolica in avorio, con una mater dolorosa che la abbracciava, e alcune incisioni straniere di grandi pittori italiani dai secoli scorsi. Accanto a queste raffinate e costose riproduzioni, facevano spicco parecchie popolarissime litografie russe, di santi, martiri, prelati e via dicendo, di quelle che si vendono un soldo l'una in tutti i mercati. C'erano pure in litografia ritratti di arcivescovi russi antichi e contemporanei, ma questi occupavano le altre pareti. Mjusov, con una rapida occhiata, abbracciò tutto quel filisteume e posò fisso lo sguardo sullo starec. Egli aveva una gran fiducia nell'acutezza del proprio sguardo. Era questa una sua debolezza. Senza dubbio perdonabile se si consideri che aveva ormai 50 anni, età in cui il colto e agiato uomo di mondo acquista sempre un maggior concetto di sé, a volte anche senza volerlo. Fin dal primo momento lo starec non gli piacque. Ed effettivamente nel viso dello starec c'era qualche cosa che a molti, oltre che a Mjusov, potevano un piacere. Era un piccolo uomo basso e curvo, debolissimo di gambe, di 60 anni al massimo, ma la cattiva salute lo faceva figurare assai più vecchio, a dir poco di 10 anni. La sua faccia, che era assai magra, era tutta tempestata di minute grinzoline, fitte soprattutto intorno agli occhi. Gli occhi erano non grandi, di color chiaro, rapidi e scintillanti, da sembrare due puntini che brillassero. I pochi capelli grigiognoli resistevano soltanto sulle tempie. La barba a punta era minuscola, e rada rada, e le labbra, che spesso sorridevano, sottili sottili, come due refi. Il naso, se proprio non era lungo, era aguzzo, come un becco d'uccello. Secondo tutti gli indizi, un animo piccolo, maligno e grettamente presuntuoso, frullò nel cervello a Mjusov, che già, per tutto l'insieme, si sentiva assai di malumore. Lo scoccar dell'orologio aiutò l'inizio della conversazione. Batterono a fretta dal modesto orologio a pendolo, le dodici in punto. «In punto, in punto, l'ora stabilita», esclamò Fyodor Paolovic, «e mio figlio Dmitri Fyodorovic non si vede ancora. Chiedo scusa per lui, stareci santo». Agli osce, a quello stareci santo, sussultò. «Per conto mio, io sono sempre preciso, ricordando che la puntualità è la cortosia dei re. Ma mi pare che voi, salvo errore, non siate un re», mormorò, scattando di colpo, Mjusov. «Già, sta proprio così. Non sono un re, e figuratevi, Pietro Aleksandrovic, che questo lo sapevo anch'io, giurabacco. Ed ecco che siamo sempre lì, non parlo mai a proposito. Reverendissimo, proruppe con non so quale subitaneo pathos, voi vi vedete innanzi un buffone bello e buono. Così, devo pur presentarmi. Si tratta di una vecchia abitudine, ahimè, e se a volte butto là qualche sproposito, lo faccio anche con intenzione, con intenzione di far ridere gli altri e di riuscire piacevole. E riuscire piacevoli bisogna, non è vero? Una volta, sette anni fa, arrivo in una cittaduzza dove avevo certi affarucci e io, con certi piccoli commercianti, avevo formato una società a scartamento ridotto. Ci richiamo dal capo della polizia, dall'Ispravnik, dato che bisognava pregarlo ad un certo affare e invitarlo a mangiare insieme un boccone. Scappa fuori costui, un pezzo d'uomo alto, grosso, biondo, tutto ingrugnato, uno di quei soggetti che in casi simili sono i più pericolosi. Soffriva di fegato, ci scommetto, soffriva di fegato. Io me li accosto senz'altro, e, sapete, con quella certa disinvoltura dell'uomo di mondo. Signor, Ispravnik, vi faccio, volete essere voi, per così dire, il nostro Napravnik? Di che Napravnik intendete parlare? Lo vedo subito, di primo acchito, che ho fatto cilecca, se ne sta lì serio serio, sulla difensiva. Io, dico, volevo scherzare un po', per stare allegri così, in comitiva, dato che il signor Napravnik è il nostro famoso direttore d'orchestra russo, e noi si ha bisogno, appunto, per la buona armonia della nostra intrapresa, di una specie di direttore d'orchestra. E non mi pare di essermi spiegato male, ne è vero, o di avere fatto un paragone cervellotico. Scusate, fa quello, io sono un Ispravnik, e Kalembur sul mio titolo non permetto a nessuno di farne. Si volta le spalle e se ne esce. Allora io, a gridagli appresso, ma sì, ma sì, voi siete un Ispravnik, non siete Napravnik. No, risponde, una volta che l'avete detto, significa che per voi sono un Napravnik, e, figuratevi che in questo modo, l'affare andò in fumo. E dunque mi succede così. Ogni volta mi succede così. Senza dubbio, con le mie piacevolezze, io faccio il mio danno. Un'altra volta, sono passati ormai trent'anni, mi viene detto con uno, che era un personaggio di riguardo, la vostra signora è una donna di grande sensibilità. Intendendo nel senso dell'onore, delle qualità morali, e quello a bruciapelo mi ribatte, oh che, avete provato a farlo il solletico? Io non seppi frenarmi. Via, penso fra me, voglio scherzare. Sì, gli dico, le ho fatto il solletico. E allora il solletico, ci penso a lui, a farlo a me. Ma sono così di tanto tempo fa, e ormai non è più nemmeno vergogna parlarne. Insomma, ogni volta mi avviene di fare danno a me stesso. E questa cosa vi sta avvenendo anche adesso, con avversione Borbotto Amiusov. Lo stareci in silenzio osservò l'uno e l'altro. Oh guarda, figuratevi che io già lo sapevo, Piotr Aleksandrovich, e anzi, ci credete? Avevo il presentimento che così mi sarebbe avvenuto, fin da quando ho aperto bocca. Non solo, ma avevo il presentimento che voi per primo me lo avreste fatto notare. In questi momenti, in cui mi avvedo che lo scherzo non mi riesce felicemente, io, padre venerando, mi sento tutte e due le guance attaccarmi sia alle gengive di sotto, come se mi facesse la febbre. E questo mi accadeva fin da giovane, quando in casa dei nobili io vivevo da parassita, e così da parassita sbarcavo il lunario. Io sono un buffone nato, di radica, allo stesso modo reverendissimo che un altro nasce puro di cuore. Non voglio dire con questo che in me non possa esserci anche uno spirito immondo, semmai di piccolo calibro, che, se fosse stato di importanza, si sarebbe scelto un altro alloggio. Non già il vostro, però, Pietro Aleksandrovich, che anche voi non siete mica un alloggio di grande importanza. Ma certo è che io credo, credo in Dio. Soltanto in questi ultimi tempi sono stato assalito da dubbi, ma appunto mi trovo qui in attesa di parole sublimi. Io, reverendissimo, sono come il filosofo Diderot. Forse voi sapete, Padre Santo, come Diderot, il filosofo, si presentasse al metropolita Platone dinanzi all'imperatrice Caterina. Entra, e così a bruciapelo Dio non esiste. Allora il gran presule solleva il dito e risponde dice lo stolto in cor suo Dio non c'è. quello né tanto né quanto giù in terra ai suoi piedi. Credo, grida, e voglio avere il battesimo. E così lì per lì fu battezzato. La principessa Dashkova fu la madrina e il padrino fu Potionkin. Fyodor Paolovic, così è intollerabile. Sapete benissimo anche voi che state mentendo e che questo stupido aneddoto non è punto vero. Perché vi ostinate così? Con voce tremante, incapace di trattenersi oltre proruppe Mjusov. Sempre, sempre ho avuto l'impressione che si trattasse di una menzogna. Con trasporto esclamò Fyodor Paolovic. Io, signori, voglio dirvi però tutta la verità. Stareci illustre, perdonatemi. Quest'ultima parte sul battesimo di Diderot ce l'ho appiccicata io stesso proprio all'ultimo momento mentre stavo raccontando. Prima d'allora non mi era mai neppure venuta in mente. Ce l'ho appiccicata per rendere l'aneddoto un po' più piccante. Per questo mi do da fare, Piotr Aleksandrovich, per riuscire più gradevole. Ma poi, del resto, non so neanch'io a volte il perché. E per quanto riguarda Diderot, quel, dice lo stolto, l'avrò sentito una ventina di volte fin da quando ero giovane, dai possidenti di qui, quando vivevo della loro generosità. E anche a vostra zia, Piotr Aleksandrovich, a Mavra, Frommiscina, l'ho sentito dire fra gli altri. Tutti costoro finora sono stati sempre convinti che l'ateo di Diderot andò dal metropolita Platone a disputare su Dio. Mjusov salzò. Non basta dire che aveva perso la pazienza, era quasi fuori di sé. La collera lo sopraffaceva e capiva lui stesso che così si rendeva ridicolo. Effettivamente, in questa cella stava accadendo qualcosa di inaudito. Da forse 40 o 50 anni, fin da quando c'erano gli stareci precedenti, si radunavano in questa cella i visitatori, ma sempre con la più profonda devozione. Non era mai avvenuto altrimenti. Tutti, si può dire, gli ammessi, entrando in questa cella, comprendevano che veniva usato loro, con ciò stesso un altissimo favore. Molti si gettavano in ginocchio e non salzavano di in ginocchio per tutta la durata della visita. Molti fra i visitatori di condizione più elevata e di più grande dottrina, non solo, ma perfino alcuni tra i liberi pensatori, che si recavano qui per curiosità o per qualche altro motivo, quando entravano in questa cella, in compagnia d'altri o per un colloquio individuale, si prefiggevano come regola essenziale, tutti indistintamente. La più profonda deferenza e delicatezza per tutto il tempo della visita, tanto più che qui non si faceva questione di censo. C'era soltanto amore e pietà da una parte, dall'altro repentimento e brama di risolvere un difficile problema dell'anima o un momento difficile nella vita del proprio cuore. Cosicché adesso una buffoneria come quella che Fiodor Paolovic aveva messo fuori, peccando di rivarenza verso il luogo in cui si trovava, produsse negli astanti o almeno in alcuni di essi sconcerto e stupore. I due ieromoneci, pur non alterando ad un'ombra la loro fisionomia, restavano sospesi con seria attenzione a ciò che avrebbe detto allo Starec. Pronti tuttavia, gli sarebbe detto, a levarsi in piedi come Miusov. Aliosha era pronto a rompere in lacrime e stava lì, dritto, con la testa china. Soprattutto strano gli sembrava che suo fratello, Ivan Fiodorovic, il solo su cui egli sperasse e il solo che avesse sul padre un'influenza sufficiente a farlo smettere, se ne stesse seduto immobile sulla sua sedia, con lo sguardo a terra e anzi aspettasse evidentemente con una viva curiosità in che modo la faccenda sarebbe andata a finire, quasi che lui si trovasse lì come un estraneo qualunque. Arachitin, il seminarista, che Aliosha conosceva pur bene, tanto che quasi erano intimi, Aliosha non poteva neanche girare gli occhi. Conosceva le sue idee, seppure a conoscere fosse lui solo in tutto il convento. Scusatemi, cominciò Mjusov rivolgendoci allo Starec, se forse vi può sembrare che anch'io abbia parte in questo indegno scherzo. Il mio errore consiste nell'aver creduto che anche un tipo come Fyodor Pavlovich, alla presenza di una persona così veneranda, avrebbe voluto intendere le sue obbligazioni. Non mi immaginavo davvero che mi sarebbe toccato di chiedere scusa proprio del fatto di essere venuto qui con lui. Piotr Aleksandrovich non terminò il discorso e sopraffatto dalla confusione fece per uscire addirittura dalla stanza. Non vi agitate, vi prego, sazzò a un tratto a sedere sulle gambe malferme lo Starec e prendendo Piotr Aleksandrovich per tutte e due le braccia lo fece sedere di nuovo sulla poltrone. State tranquillo, vi prego. Io prego voi in particolare di onorarmi della vostra presenza e chinando il capo nel ritirarsi indietro sedette di nuovo sul divanuccio. Venerando Starec, parlate, vi offendo io con la mia petulanza, ruppe d'improvviso Fiodor Paolovic aggrappandosi con tutte e due le mani ai braccioli della poltrona e quasi accingendoci a saltarne fuori a seconda della risposta. Sinceramente, prego anche voi di non agitarvi e di non sentirvi a disagio. Con accento penetrante gli si rivolse lo Starec. Non sentitevi a disagio. Comportatevi come se foste a casa vostra e soprattutto non vi vergognate così di fronte a voi stesso già che è di qui e non da altro. Deriva tutto quanto. Come se fossi a casa mia? Vale a dire mostrarmi al naturale? Oh, questo è troppo. Altro se è troppo ma accolgo commosso la parola. Sentite, Padre Benedetto non invitate a mostrarmi al naturale. Non vi spingete a tanto. Fino al punto di mostrarmi al naturale sarò il primo io a non arrivarci. Ve l'avviso per preservarne voi stesso. Già, ed il resto sono tutte cose sepolte nel buio dell'ignoto sebbene ci siano certuni che hanno avuto la pretesa di dipingermi. Dico questo per voi Piotr Aleksandrovich ma a voi creatura santa ecco che cosa vi dico lasciatemi sfogare la mia esultanza. Salza su e sollevando verso l'alto le braccia declamò Benedetto il ventre che t'ha portato e le mammelle che t'hanno nutrito le mammelle soprattutto. Voi con questo rilievo che avete fatto orora non vergognatevi così di voi stesso da che appunto di qui deriva tutto. con questo rilievo è come se mi aveste passato da parte a parte e mi aveste letto nell'intimo. E' proprio vero che mi fa sempre questa impressione quando mi presento alla gente come se io fossi il più vile di tutti e tutti mi giudicassero un buffone e allora io mi dico lasciatemi un po' per davvero fare il buffone che già non la temo l'opinione vostra già che tutti dal primo all'ultimo siete più viri di me ed ecco perché sono un buffone sono un buffone per vergogna stareci venerando per vergogna è questa ombrosità non altro che mi fa far chiasso se io vedete potessi essere sicuro quando mi presento che tutti mi tenessero in conto di un uomo simpaticissimo e intelligentissimo oh signore che uomo pieno di bontà sarei io allora maestro d'improvviso sarei buttato in ginocchio che cosa devo fare per ereditare la vita eterna e anche adesso sarebbe stato difficile decidere se buffoneggiasse o se realmente fosse commosso a segno la stare salzò gli occhi su di lui e con un sorriso gli disse voi stesso lo sapete da un pezzo che cosa dovete fare non è l'intelligenza che vi difetti non datevi all'ubriachezza e alla licenziosità di parole non datevi alla lussuria e specialmente all'idolatria del denaro e dunque chiudete le vostre bettole se non potete tutte almeno due o tre ma il più importante il più importante di tutto è che non mentiate volete riferirvi all'affare di Diderot forse no non si tratta di Diderot l'importante è che non mentiate a voi stesso colui che mente a se stesso ed ascolta la sua propria menzogna arriva al punto che più nulla di vero riesce a distinguere né in sé né intorno a sé e quindi finisce a non stimare né se stesso né gli altri non stimando nessuno cessa ad amare e per trovare così privo d'amore qualche cosa che lo interessi e lo distragga si abbandona le passioni ai grossolani piaceri e scende nei suoi vizi addirittura al livello dei bruti tutto questo per l'incessante mentire che fa al prossimo e a se stesso e colui che mente a se stesso è certo il più suscettibile d'offendersi si sa offendersi a volte molto piacevole non è vero ed ecco che sa bene il nostro uomo che nessuno lo ha offeso che è stato lui stesso a immaginarsi l'offesa a mentire per farsene bello sa che lui stesso ha calcato le tinte per comporre un quadro ha spaccato in quattro ogni parola ed un fucello ha fatto una montagna sa bene anche lui tutto questo eppure è pronto più di ogni altro a offendersi pronto a offendersi fino a pigliarci gusto fino a provarci un piacere intenso e in questo modo perviene addirittura al vero e proprio rancore ma alzatevi ora sedete ve ne prego caldamente anche questi sapete sono tutti gesti falsi uomo sublime permettetevi che vi baci la mano salta su Fiodor Paolovic e rapidamente sbacciucchiò allo stare c'è la mano scarna proprio così proprio così si prova gusto a offendersi l'avete detto così bene come ancora non l'avevo mai sentito proprio proprio così io per conto mio tutta la vita ho seguitato a offendermi fino a pigliarci gusto per estetica già che non soltanto è gustoso ma è anche pittoresco a volte farlo offeso ecco una cosa di cui vi siete scordato o grande Starec è pittoresco sono cose che io vorrei farci un libretto e quanto a mentire ho mentito ho mentito vita natural durante ogni giorno e ogni ora in verità io sono la menzogna e il padre della menzogna cioè mi pare non il padre della menzogna io con i testi mi ci confondo sempre ma via anche il figlio della menzogna potrebbe bastare tuttavia angelo mio su Diderot a volte una bugiuola può passare Diderot non muoce a nessuno mentre qualche altra paroletta potrebbe muocere a proposito Starec venerando ora me ne scordavo e pensare che sono tre anni che mi sono proposto di informarmene qui di venire qui apposta per acquistarne un'idea precisa non permettete però a Piotr Aleksandrovich di interrompermi ecco la mia domanda corrisponde a verità padre santo quello che è raccontato in un passo del martirologio di un certo santo taumaturgo che fu torturato per la fede e quando alla fine gli avvero troncato la testa quello salzò sollevò la sua testa e amorevolmente se la baciò e per un bel tratto andò portandosela fra le braccia e amorevolmente se la baciava è vero questo o non è vero padre venerandi no non è vero disse l'ostarec non si trova niente di simile in tutto il martirologio di quale mai santo voi dite che sta scritto così domandò uno dei due ieromonaci il padre bibliotecario non so neppur io di quale davvero non ne so nulla sono stato tratto in inganno ma è stato raccontato io l'ho sentito dire e sapete da chi ma ecco da Pietro Aleksandrovich Miusov da lui che poc'anzi per di Deirò si è scaldato tanto proprio lui me l'ha raccontato io non ho mai raccontato questo già poi con voi io non ci parlo mai né di questo né d'altro sì è vero che non l'avete raccontato a me ma l'avete raccontato in società e c'ero anch'io fu quattro anni fa apposta l'ho tenuta a mente perché con questo racconto beffardo voi avete scosso la mia fede Pietro Aleksandrovich voi non lo sapevate di certo non lo sospettavate nemmeno ma quando io tornai a casa la mia fede era scossa ed allora man mano mi si è andata scuotendo sempre di più sì Pietro Aleksandrovich voi siete stato l'origine di una grande caduta qui si tratta di ben altro che di Deirò Fyodor Paolovich aveva assunto un calore patetico benché ormai tutti intendessero perfettamente che si trattava di una sua nuova esibizione ma Musov era ferito sangue che mucchia di Fandonie Fandonie e nient'altro mormorò effettivamente io posso averlo detto qualche volta ma non a voi anche a me è stato detto ne sentì parlare a Parigi da un francese che sosteneva che nel nostro martirologio durante la messa vi hanno letto questo si tratta di una persona coltissima specialista nello studio delle statistiche russe e che aveva vissuto a lungo in Russia io con i miei occhi il martirologio non l'ho mai letto ne ho intenzione di leggerlo per resto si dicono tante cose pranzando noi quella volta stavamo a pranzo oh sì sì voi quella volta stavate a pranzo e intanto ecco che io ho perduto la fede con sarcasmo commentò Fyodor Paolovic ma che importa a me della vostra fede scatò Musov ma di colpo si trattenne soggiungendo con disprezzo voi insudiciate è la parola tutto quel che toccate Nostalic improvviso salzò in piedi scusate signori se ora vi lascio per pochi minuti disse rivolgendosi a tutti i suoi ospiti ma c'è chi mi aspetta già da prima che voi veniste e voi badate di non mentire aggiunse rivolto a Fyodor Paolovic con una cera lieta mentre egli usciva dalla cella Agliosha e il novizio si precipitarono a sostenerlo giù per la scala Agliosha aveva l'espiro grosso era contento di usciestene fuori ma insieme era pure contento che lo Starec non si fosse offeso e si mostrasse lieto lo Starec si diresse verso la veranda per benedire la gente in attesa ma Fyodor Paolovic tanto fece che lo fermò alla soglia della cella celeste creatura gridò con trasporto permettete che ancora una volta io baci la vostra mano oh con voi si può ancora parlare si può ancora vivere credete che io sia sempre così stupido e che faccia sempre il buffone sappiate allora che fin qui ho fatto apposta tutte queste commedie per mettervi a prova io fin qui non ho fatto altro che tastare il terreno se con voi fosse possibile vivere se per questa sottomissione ci fosse posto nel vostro orgoglio vi rendo un attestato di lode con voi è possibile vivere ma adesso taccio d'ora innanzi starò sempre in silenzio starò seduto al mio posto e tacerò ora a voi Piotr Aleksandrovich spetta la parola siete voi ora la persona più importante che sia rimasta per una decina di minuti pellegrini fedeli giù accanto alla veranda di legno addossata alla parete esterna della clausura si accalcavano in quel momento tutte le donne una ventina circa di popolane erano state avvisate che lo star finalmente stava per uscire ed esse si erano raggruppate lì in attesa si erano affacciate alla veranda anche le signore Choklakov che aspettavano ugualmente lo starich ma nel locale riservato alle visitatrici di classe esse erano in due madre e figlia la signora Choklakov madre da maricca e sempre elegantemente vestita era una donna ancora abbastanza giovane e molto carina un po' pallida con due occhi vivissimi e quasi perfettamente neri non aveva più di 33 anni e già da 5 anni era vedova la figliuola 14enne aveva le gambe paralizzate era già un mezz'anno che la povera giovinetta non poteva camminare e bisognava trasportarla su una lunga poltrona a ruote era una figurina incantevole un pochino smagrita dal male ma lieta un che di burlesco scintillava negli scuri grandi occhi di lei dalle lunghe sopracciglia fin dalla primavera la madre aveva cominciato i preparativi per condurla all'estero ma poi nel corso dell'estate saranno attardate per sistemare le cose nei possedimenti era ormai una settimana che soggiornavano nella nostra città piuttosto per affari che come pellegrine ma già un'altra volta tre giorni or sono avevano visitato lo Starec adesso erano tornate d'improvviso benché sapessero che lo Starec non era quasi più in grado di ricevere chi che sia e con insistenti preghiere avevano chiesto di avere ancora una volta la felicità di rimirare il sublime risanatore aspettando che lo Starec uscisse la mammina si era seduta su una sedia accanto alla poltrona della figliuola mentre a due passi da lei stava dritto un vecchio monaco che non era di questo convento veniva da un lontano ma noto cenobio del settentrione anche costui attendeva la benedizione dello Starec ma quando apparve sulla veranda lo Starec si avviò anzitutto verso la gente del popolo la folla si accalcò intorno alla scaletta che dalla bassa veranda con tre gradini scendeva a terra lo Starec si fermò sul gradino più alto indossò la stola e cominciò a benedire le donne che gli si stringevano intorno gli fu portata innanzi una clicuscia che tenevano per tutte e due le braccia quella appena scorse lo Starec di colpo con stridi insensati cominciò a rantolare e a contorcersi tutta come nelle doglie del parto ponendole sul capo la stola lo Starec pronunciò sulla donna una breve preghiera e subito essa mutò lì e si fece calma non so quel che avvenga ora ma quando io ero bambino mi sono trovato parecchie volte in campagna e presso i conventi a vedere e ascoltare coteste clicusci le portavano durante la messa e quelle stridevano e rompevano i nullulati canini da rimbombare tutta la chiesa ma quando venivano recati fuori i sacripani ed esse venivano condotte là da presso immediatamente l'invasamento cessava e le inferme per un po' di tempo si calmavano ogni volta io bambino com'ero ne restavo assai impressionato e stupito se non che sempre in quegli anni sentivo asserire da parecchi proprietari e soprattutto in città dai miei maestri ai quali domandavo spiegazione che quella era tutta una commedia e nient'altro fatta allo scopo di non lavorare e che si poteva troncarla benissimo con le debite misure di severità come dimostravano i vari aneddoti che adducevano ma più tardi con stupore venne a sapere da medici specialisti che si trattava di ben altro che di una commedia si trattava di una tremenda malattia femminile che sembra diffusa principalmente da noi in Russia e sta a testimoniare del crudele destino della nostra donna di campagna una malattia provocata dagli estenuanti lavori ripresi a troppo breve distanza dai parti travagliati irregolari senza assistenza medica di sorta oltre che dai dolori senza sfogo dalle percosse e da tutte quelle cose che certamente nature femminili non riescono come tant'altre a sopportare quanto poi a quella strana e istantanea guarigione che nel colmo delle furie e delle convulsioni sorprendeva la donna non appena la accostavano ai sacri pani e che a me veniva spiegata come una finzione non solo ma come una trappola organizzata a buon conto dai clericali è probabile che anch'essa venisse in modo perfettamente naturale dato che tanto le donne che la portavano ai sacri pani quanto ciò che più importa la malata stessa erano pienamente convinte come di una verità irrefutabile che lo spirito immondo dal quale la malata era posseduta non avrebbe potuto mai resistere se appressandola ai sacri pani le avessero fatta genuflettere dinanzi a questi così si determinava ogni volta e non poteva a meno di determinarsi in una donna nervosa e anche psichicamente malata come erano quelle una specie di inevitabile scossa di tutto l'organismo in quell'atto di genuflettersi ai sacri pani scossa suscitata dall'attesa dell'immancabile miracolo della guarigione e dalla stessa profonda fede che esso si sarebbe avverato ed esso veniva ad avverarsi fosse anche soltanto per un minuto appunto in questo modo si avverò anche adesso non appena lo star ricoprì la malata con la stola molte delle donne che si affollavano da presso si fondevano in lacrime di tenerezza e di gioia provocate dalla commozione del momento altre si gettavano a baciare almeno l'orlo di quel suo vestito e altre li taniavano come prefiche egli le benedisse tutte e con qualcuna si mise a discorrere la clicuscia gli era già nota veniva da poco lontano da un villaggio a non più di sei miglia dal convento e già altre volte era stata condotta qui eccone una che è di lontano ed egli indicava una donna tutt'altro che vecchia ma molto magra e demaciata non tanto abbronzata quanto piuttosto stranamente annerita in viso essa stava in ginocchio con lo sguardo in moto fissava lo starec nel suo sguardo c'era qualcosa di attonito di lontano padre mio di lontano da 300 miglia di qui di lontano padre di lontano cominciò la donna cantilenando ed ondolava lentamente la testa da una parte all'altra sostenendosi la guancia con il palmo della mano parlava come se recitasse le lamentazioni funebre c'è nel popolo un dolore taciturno è paziente si ritira in se stesso e tace ma c'è anche un dolore che esplode esso dapprima prorompe in lacrime e poi continua a colare in lamentazioni questo è comune soprattutto fra le donne ma non è un dolore più lieve di quello taciturno le lamentazioni non gli danno altro ristoro fuorché quello di sulcerare e di lacerare il cuore è un dolore che non desidera neppure di trovare consolazione si nutre del senso d'essere inconsolabile le lamentazioni sgorgono da un bisogno di rinfiammare incessantemente la piaga sei di città continuò osservandola con interesse lo stare di città padre mio di città siamo noi siamo di famiglia contadini ma siamo di città in città abitiamo per vedere te padre mio sono venuta ci hanno tanto parlato di te caro padre ce ne hanno parlato tanto un figlio letto così piccolo mi è morto mi sono messa in giro a pregar dio in tre conventi sono già stata e mi hanno detto prova un po' prova un po' Nastasiuska a andare anche qua da voi volevano dire angelo bello da voi sono venuta ieri mi sono fermata al posto di riposo e oggi eccomi da voi ma che cosa ti fa piangere c'ho una pena di quel figlioletto padre mio tre anni ci avevo ormai che ancora tre mesi soli e avrebbe compiuto tre anni di quel figlioletto ma coro tanto padre ma coro tanto era l'ultimo figlioletto che ci restava che quattro ne abbiamo avuti io e Nikituska ma non ci vivono i figli a noi altri non ci vivono caro non ci vivono i primi tre li ho messi sottoterra e un gran dispiacere non l'ho sentito ma quest'ultimo da che l'ho messo sottoterra non me lo posso scordare più ecco è come se mi stesse qua davanti non mi lascia un momento mi si è succhiata l'anima mi casca l'occhio su quella robetta sua su quelle camiciuole quegli scarponcini e subito attacco a piangere rimetto in ordine quello che ha lasciato ogni oggettino che ci aveva mi ci affisso con gli occhi e piango dico a Nikituska a mio marito lasciami andare tu sei il capo di casa lasciami andare in pellegrinaggio lui fa il vetturino stiamo non c'è male padre la zenduccia la mandiamo avanti da noi abbiamo tutto del nostro cavalli e carrozze ma ormai e ce ne facciamo più della roba quello da che non ci sono io ha cominciato con gli stravizi in mia Nikituska è cosa sicura anche prima appena voltavo gli occhi subito subriacava ma ora non penso più nemmeno a lui ecco qua sono già tre mesi che sto via da casa mi è uscito di mente tutto mi è uscito di mente e non mi va nemmeno di ricordarmene già ormai che potrei avere a che fare con lui è finita ogni cosa con lui ogni cosa è finita per me è finita con tutti non darei più un'occhiata a casa mia alla mia roba e non vorrei vedere più niente al mondo ascoltami madre disse allo starish una volta ai tempi di prima un gran santo un gran santo vide nel tempio una madre come te che piangeva e anche lei per un suo figlio ha detto l'unico che avesse che anche quello lo aveva chiamato il signore ma dunque non sai le disse il santo quanto ardire prendono questi piccini dinanzi al trono del signore non c'è nessuno più ardito di loro nel regno dei cieli tu signore ci hai donato la vita dicono a dio e non appena noi l'abbiamo vista subito tu ce l'hai ritolta e con tanto ardimento chiedono e domandano che il signore concede a loro senz'altro il grado di angeli perciò disse quel santo anche tu rallegrati o donna e non piangere che anche il piccino tuo ora sta col signore nell'accolta dei suoi angeli ecco che disse quel santo quella donna piangente nei tempi antichi e quello era un santo grandissimo che cose non vere non poteva dirgliele per tutto questo sappi anche tu o madre che anche il piccino tuo ora sta certamente dinanzi al trono del signore e si rallegra e gioisce e prega il dio per te e dunque anche tu non piangere ma anzi rallegrati la donna lo ascoltava puntellandosi con la mano la guancia e tenendogli occhi a terra essa diede un profondo sospiro e così anche Nikituska mi consolava sempre mi diceva tutta una parola con te tu non ragioni mi diceva perché piangi il figlioletto nostro adesso sta di sicuro accanto al signore a cantare in coro con gli angeli mi diceva così ma intanto anche lui piangeva io lo vedevo piangeva tale e quale a me lo so anch'io gli rispondo Nikituska mio dove vuoi che si trovi per forza sta accanto al signore ma qui però con noi altri Nikituska mio adesso lui non c'è più qui accanto a noi come stava allora e se io potessi solamente vederlo una volta e non di più quanto una piccola volta posare un'occhiata su lui non pretenderei nemmeno di accostarmi non fiaterei mi acquaterei in un cantuccio basta che per un minuto solo potessi vederlo sentirlo come giocava in cortile e poi veniva lì e gridava con quella vocetta mammina dove sei ma contenterei di sentirlo per quella stanza come passava coi suoi piedini quanto un momento un momentino solo che con quei piedini faceva tuc tuc e mi ricordo che ogni poco ogni poco lo sentivo così che correva da me gridava e rideva ma contenterei di risentire i suoi piedini basta di risentirli di riconoscerli ma lui non c'è più padre mio non c'è più e non lo sentirò mai più ecco qua il suo cinturino ma lui lui non c'è più e mai più di qui in avanti non lo rivedrò non lo sentirò aveva estratto dalla bisaccia il piccolo cinturino di passamano che era stato del suo bambino e posatoci appena lo sguardo cominciò a sussultare fra i singhiozzi coprendosi con le dita agli occhi da cui le scorrevano giù zampillate di colpo a torrenti le lacrime è così disse lo starec è l'antica Rachele piange ai suoi figli che non può consolarsi perché essi non esistono più questi o madri è il destino che vi ha segnato sulla terra e non consolarti non bisogna nemmeno che tu ti consoli non consolarti non consolarti e piangi purché ogni volta che piangerai ti ricordi sempre che il figliolino tuo è uno degli angeli del signore e di lassù ti guarda e ti vede e le lacrime tue lo fanno contento e lui le mostra al signore e ancora per un pezzo ti seguirà questo gran pianto materno ma alla fine ti si convertirà in pace e gioia e queste due lacrime amare diverranno lacrime di calma tenerezza ed intima purificazione che ti preserverà dai peccati e il tuo bambinetto io lo ricorderò nella messa dei defunti come si chiamava Alexei Alexei padre anche il nome mi caro per Alexei salvo di Dio di Dio padre di Dio Alexei salvo di Dio è un santo così grande lo ricorderò madre lo ricorderò e anche della tua afflizione mi rammenterò nelle mie preghiere e pregherò anche per la buona condotta di tuo marito vada però che tu faresti un peccato se lo abbandonassi vada tuo marito e abbi cura di lui se di lassù il tuo bambino vedesse che tu hai abbandonato suo padre si metterebbe a piangere per causa vostra perché vorresti dunque guastare la sua felicità lui è vivo sai è vivo perché l'anima resta viva in eterno e se non c'è più lì in casa lui senza farsi vedere vi sta sempre accanto come farebbe dunque a venire lì in casa se tu dici che è preso in odio la tua casa e da chi mai potrebbe andare se voi che gli siete padre e madre non vi faceste trovare insieme adesso vedi lui ti viene in sogno e tu ci soffri tanto ma allora saranno dolci i sogni che ti fa venire vada tuo marito madre avviati oggi stesso ci andrò padre santo ci andrò secondo la tua parola ma hai trapassato il cuore oh Nikituska mio oh Nikituska aspettami caro aspettami cominciava già a cantilenare la donna ma lo starec intanto sarà voltato a una decrepita vecchiarella che non era vestita da pellegrina ma da città dagli occhi le si vedeva che aveva qualche affare di premura e che era venuta per chiedere consiglio disse di essere la vedova ad un modesto ufficiale tutt'altro che di lontano anzi della nostra stessa città il suo figliuolo Vasenka era addetto non so dove all'intendenza militare ed era partito per la Siberia per Irkutsk di là aveva scritto due volte poi ecco che già da un anno non aveva scritto più lei aveva cercato di avere notizie ma a dire il vero non sapeva dove precisamente richiederle così giorni fa parlando con Stepanida il Nisna Belriagina è una bottegaia tanto ricca lei mi ha detto fa così Prociorovna segna dice il nome di tuo figlio come se fosse quello di un morto portalo dice in chiesa e iscrivilo nella lista delle messe dei defunti l'anima sua dice si sentirà venire addosso una malinconia che lo farà decidere a mandarti una lettera e dice Stepanida Ivanovna che è una cosa sicura provata parecchie volte io però sto un po' in dubbio dimmi tu luce nostra è vero o non è vero e sarà ben fatto nemmeno perciarla è vergogna anche domandarlo ma com'è possibile far dire la messa funebre a un'anima in vita ed essere proprio la madre a farla dire questo è un peccato enorme paragonabile alla stregoneria e soltanto la tua ignoranza te lo fa perdonare ma tu prega piuttosto la regina del cielo sollecita l'interceditrice equadiutrice nostra perché tuo figlio si mantenga sano e anche perché ti venga perdonato il tuo sciagurato proposito ed ecco che ti dico ancora Prokhorovna o lui in persona e il tuo figliuolo tornerà presto qui da te o certamente scriverà una lettera sta sicura di questo ora va e da oggi in poi rimani tranquilla è vivo il tuo ragazzo mi puoi credere angelo nostro che Dio ti rimeriti tu sei il benefattore nostro l'intercessore per tutti noi e per i nostri peccati ma già lo stare ci aveva notato tra la folla brucianti e fisse su di lui le due pupille di una contadina estenuata tisica all'aspetto sebbene ancora giovane essa guardava in silenzio e quegli occhi chiedevano qualche cosa ma sembrava che avesse timore ad appressarsi chi ti conduce qui figliuola cara sciogliami il groppo che ha di dentro padre a bassa voce senza frettarsi disse la donna si ingenocchiò e si prostrò ai piedi di lui ho peccato padre mio e il mio peccato mi spaventa lo stare c'è sedetta sul gradino più basso la donna gli si accostò senza alzarsi di sui ginocchi sono vedova da tre anni cominciò essa con un soffio di voce mentre le prendeva una specie di brivido era dura la vita con mio marito era vecchio mi picchiava malamente si mise a letto io lo guardavo e dicevo fra me e se ora guarisce e salza un'altra volta come si farà allora mi venne questo pensiero aspetta disse lo starec e avvicinò l'orecchio accosto accosto alle labbra di lei la donna continuò in un bisbido lievissimo di cui non si poteva afferrare quasi nulla in breve ebbe finito sono tre anni domandò lo starec tre anni da principio non si pensavo ma ora mi ci sento male mi è venuta addosso una pena veni di lontano da cinquecento miglia distante in confessione l'hai detto l'ho detto anzi l'ho detto due volte t'hanno ammesso la comunione sì ma ho paura ho paura di morire non aver paura di nulla non aver paura mai e non ti far prendere dall'angoscia basta che il pentimento non ti si indebolisca dentro e Dio ti perdonerà tutto nel mondo intero non c'è e non ci può essere un peccato tanto grave che il Signore non lo perdoni a chi se ne pente proprio di cuore e non è possibile che l'uomo compia un peccato tanto tremendo che dia fondo all'infinito amore di Dio può mai esistere un peccato tale che sorpassi l'amore di Dio al pentimento sì pensaci sempre ma la paura scaccia la via senz'altro abbi fede che Dio ti ama tanto che tu non puoi neppure immaginartelo Dio ti ama nonostante il tuo peccato e nel peccato in cui ti trovi ma per un peccatore pentito si fa più festa in cielo che per dieci giusti è stato detto già da tanto tempo va dunque e non temere non ti risentire contro gli altri se ti offendono non ti adirare perdona il morto in cuor tuo tutto quel che ti ha fatto soffrire riconciliati con lui sinceramente se provi pentimento vuol dire che ami e se amerai tu sarai già di Dio con l'amore si acquista tutto tutto si salva se io che sono al pari di te un uomo peccatore mi sono commosso sul tuo caso e ho avuto pietà di te quanto più sarà così di Dio l'amore è un tesoro così inestimabile che ci puoi comperare tutto il mondo e non soltanto i peccati tuoi ma anche quelli dagli altri ne restano ricomperati va e non temere egli fece tre volte su di lei il segno della croce si tolse dal collo un'immaginetta e la mise a lei la donna in silenzio gli si chinò dinanzi fino a terra egli si levò e lietamente volse gli occhi a una florida contadina che aveva un lattante in braccio vengo da visciargore padre caro eppure sono sei miglia di qui col bambino ti sarai strapazzata che cosa volevi sono venuta per vederti un momento perché da te io ci sono già stata non te ne ricordi più allora non avresti una gran memoria se già ti fossi scordato di me ho sentito dire lì da noi che tu stavi male e subito ho pensato fammi andare a vederlo con i miei occhi e ora che mi stai davanti ma che razza di malato sei tu ancora vent'anni camperai te lo dico io che Dio ti benedica e poi con tante persone che pregano per te tu vorresti ammalarti grazie di tutto cara certo che la richiesta mia è affare di poco ecco qua 60 copeche dalle tu caro a qualcuna che è più poveretta di me mentre venivo qua mi sono detta sarà meglio che le consegni a lui che sa bene a chi darle grazie cara grazie mia buona filbole tu mi piaci non dubitare ci penserò io tu mi hai rallegrato il cuore madre addio mia care addio creature soavi egli le benedisse tutte e fece a tutte un inchino profondo una signora di poca fede la signora che era ospite del convento osservando tutta la scena del colloquio con le donne del popolo e della benedizione impartita ad esse si affondeva in tacite lacrime e veniva asciugandosele col fazzoletto era una sensibile signora di mondo con delle inclinazioni in gran parte schiettamente buone quando lo Starz si accostò finalmente anche a lei essa lo accolse tutta entusiasta oh quante cose quante cose ho provato guardando a questa scena commovente ed essa non terminò la frase dall'agitazione oh io capisco che il popolo vi ama io stessa amo il popolo desidero d'amarlo e poi come non amarlo il popolo il nostro magnifico popolo russo così semplice nella sua grandezza come va la salute della vostra figliuola desiderate di nuovo avere un colloquio con me oh io ho pregato con tanta insistenza per questo ho supplicato ero pronta magari a mettermi in ginocchio e a rimanere così in ginocchio anche tre giorni sotto le vostre finestre finché voi non mi aveste fatto passare noi siamo venute da voi sublime risanatore per esprimervi tutta la nostra entusiastica gratitudine sapete la mia lisa voi l'avete guarita guarita perfettamente fu quando giovedì scorso diceste quella preghiera su di lei e posaste su di lei le mani noi siamo corse qua a coprir di baci queste mani a esternarvi i nostri sentimenti e la nostra devozione ma come l'ho guarita mi pare che essa stia coricata pur sempre nella sua poltrona ma le febbre notturne sono cessate completamente sono già due giorni da giovedì per l'appunto nervosamente incalzò la signora e non basta le gambe le hanno ripreso forza stamattina si è alzata in buona salute ha dormito tutta la notte guardate un po' che rossetti che occhi brillanti prima non faceva che piangere ora invece ride è allegra festosa seguita a sfidarmi che fra due settimane ballerà la quadriglia io ho chiamato il dottore di qui Herzstube si è stretto nelle spalle e ha detto rimango stupito non riesco a capire e voi vorreste che noi non vi avessimo disturbato che avessimo potuto fare a meno di precipitarci qua che non vi avessimo ringraziato Lise ringrazia dunque ringrazia il simpatico ridente vicino di Lise si fece d'improvviso serio essa si sollevò sulla poltrona quanto le fu possibile e fissando lo starec gli giunse innanzi le piccole mani ma non resse e di colpo scoppiò a ridere è tutto lui è tutto lui accennò dagli oscia in un infantile disappunto di se stessa per non essersi saputa trattenere dal ridere e chi avesse osservato agli oscia dritto un passo dietro lo starec avrebbe notato sul viso di lui un rapido russore che in un attimo gli aveva per vaso le gote i suoi occhi ebbero un lampo e si abbassarono a terra essa ha per voi alexei fiodorovic una commissione come state riprese la madre colgendosi un tratto ad agli oscia e stendendogli leggermente inguantata la piccola mano lo starec si guardò intorno e a un certo punto attentamente posò l'occhio su agli oscia questi si era avvicinato a lisa e in un certo modo strano e impacciato aveva teso la mano anche a lei lisa aveva assunto una fisionomia piena di gravità Caterina Ivanovna mi ha pregato di consegnarvi questo disse e gli diede una piccola letterina e sa vi raccomando soprattutto che andiate da lei ma al più presto al più presto e non che le diciate una cosa per un'altra ma che vi facciate vedere assolutamente si raccomanda che io vado da lei da lei io ma perché con profondo stupore mormorò agli osce il suo avviso era diventato a un tratto pieno di cruccio oh è sempre a motivo di Dmitri Fiodorovic e di tutti quest'ultimi avvenimenti disfuggita spiegò la mammina Caterina Ivanovna sarebbe venuta ora in una determinazione ma per far questo ha assoluto bisogno di vedere voi perché voi direte confesso che non lo so ma sarà comandata che ci andiate al più presto e voi ci andrete ci andrete senza dubbio in un caso come questo è anche un sentimento cristiano che ve lo comanda io l'ho veduta in tutto una sola volta continuò agli osce che non riusciva a riscuotersi dal suo stupore oh è una creatura talmente nobile talmente superiore non fosse altro per le sue sofferenze pensate a tutto quello che ha sopportato a tutto quello che sta sopportando ora pensate a quello che la attende è tutto un insieme di cose tremendo tremendo va bene ci andrò decise agli oscia scorrendo il breve ed enigmatico bigliettino che oltre l'urgente preghiera di andare non recava spiegazioni di sorta ah questo da parte vostra sarà molto simpatico e bello di colpo animandosi tutta proruppe Lisa e pensare che io dicevo a mamma non c'è pericolo che quello ci vada quello vada a salvarsi l'anima oh come siete buono e nobile voi io ho sempre pensato sapete che voi siete buono e nobile e ora mi fa piacere potervelo dire Lisa intorno al monitore disse la mamma sebbene poi subito avesse un sorriso anche di noi vi siete scordato Alexei Fiodorovic si vede proprio che non volete capitare da noi e intanto Lisa già due volte mi ha detto che solo con voi si sente bene Agiosha sollevò gli occhi da terra di colpo orsi un'altra volta e un'altra volta di colpo senza sapere di che cosa sorrise lo starec del resto non stava più ad osservarlo aveva cominciato a parlare con quel monaco di passaggio al convento che poco discosto delle poltrona di Lisa aspettava come si è già detto il momento che uscisse si trattava evidentemente di un monaco dei più umili intendo d'umile condizione di quelli che hanno una mentalità gretta e refrattaria ma sono pieni di fede e nel loro genere ostinati disse di venire da non so quale località del remoto settentrione dalle parti di Obdorsk da San Silvestro un povero monastero che contava in tutto nove frati lo starec lo benedisse e lo invitò a recarsi nella sua cella quando gli fosse riuscito comodo dunque voi vi rischiate a compiere tali azioni domandò il monaco a bruciapelo additando l'ise con aria grave e solenne e gli alludeva alla guarigione di lei è una cosa veramente di cui è ancora presto parlare un miglioramento non è ancora la guarigione e potrebbe essere derivato anche da altre ragioni ma seppure qualche cosa ci fosse non saremmo in presenza di nessun'altra forza fuorché del volere di Dio tutto viene da Dio venite a trovarmi padre soggiunge allo stars venite che in altri momenti non so se potrei sto male e so che i miei giorni sono contati oh no no il Dio non ci priverà di voi vivrete ancora a lungo a lungo ruppe la mamma di Lisa e poi in che modo state male avete un aspetto così sano lieto felice oggi mi sento assai meglio del solito ma so già che si tratta di un momento e nient'altro la mia malattia ormai io la conosco senza tema di sbaglio se poi vi sembro tanto lieto credete pure che non avreste potuto in nessun modo rallegrarmi tanto come mi rallegrate con questa osservazione già che per la lietezza sono stati creati gli uomini e chi è pienamente lieto quegli è degno senz'altro di dire a se stesso io ho adempiuto il comandamento di Dio su questa terra tutti i giusti tutti i santi tutti i santi martiri tutti sono stati pieni di lietezza oh che modo avete di parlare che energiche sublimi parole ruppe la mammina di Lisa voi parlate ed è come se penetraste nell'intimo ma intanto questa felicità dove si trova chi può dire di se stesso che è felice se voi foste tanto buono da permetterci oggi di tornare a visitarvi allora potreste ascoltare tutto quello che l'altra volta non ho finito di dirvi non ho avuto il coraggio di esporvi tutto quello che mi fa tanto soffrire e da tanto da tanto mai tempo io soffro perdonatemi io soffro e in un impeto d'ardente commozione essa giunse le mani dinanzi a lui di che cosa in particolare soffro di aver poca fede poca fede in dio oh no no io non oso neppure pensarci a quello ma la vita futura questo è l'enigma tremendo e non c'è nessuno il fatto è che non c'è nessuno che vi dia una risposta ascoltatemi voi che siete un risanatore un conoscitore dell'anima umana io si intende non posso pretendere che voi mi crediate senza ombra di dubbio ma vi assicuro nel modo più solenne che non è leggerezza quella che ora mi fa parlare questo pensiero dell'oltretomba mi turba fino alla sofferenza fino all'angoscia e al terrore e io non so a chi rivolgermi non ho avuto mai il coraggio finora ecco mi è venuto ora questo coraggio di rivolgermi a voi oh dio mio perché mi prendete voi ora e batte una mano contro l'altra non vi prendete pensiero del mio giudizio rispose lo starec io sono pienamente convinto della sincerità della vostra angoscia oh e io come ve ne sono grata vedete tante volte socchiudo gli occhi e penso se tutti hanno fede quale sarà stata l'origine di questo ed ecco che certi sostengono che la prima origine di tutto sia stato il terrore di fronte ai formidabili fenomeni della natura e che di vero non ci sia nulla ma come mi dico allora io ho avuto fede tutta la vita muoio ed improvviso non c'è nulla mi crescerà un po' di bardana sulla tomba e basta come ho letto in uno scrittore questa è una cosa orribile in che modo in che modo far tornare la fede la fede del resto io non l'ho avuta che da bimbetta meccanicamente senza riflettersi che modo dunque che modo ci sarebbe di darne una dimostrazione per questo sono venuto a prostrarmi a voi questo è ciò che vi chiedo se io vedete mi lasciassi sfuggire anche questa occasione finché vivrò non troverò più nessuno che mi risponda in che modo dico io darne una dimostrazione in che modo convincersene o disgraziata che sono se mi guardo intorno vedo che tutti o quasi rimangono indifferenti nessuno ora si dà pensiero di queste cose io sola non riesco a sopportarle è una situazione massacrante massacrante senza dubbio massacrante ma non è possibile qui dimostrare nulla seppur convincersi è ben possibile come? con quale mezzo? con l'esperienza dell'amore attivo sforzatevi di amare il vostro prossimo attivamente e ininterrottamente nella misura in cui avanzerete nell'amore acquisterete anche la convinzione dell'esistenza di Dio e quella dell'immortalità dell'anima e se poi giungerete al completo rinnegamento di voi stessa nell'amore del prossimo allora la vostra fede diverrà incrollabile e nessun dubbio potrà neppure insinuarsi nell'anima vostra è una cosa sperimentata inoppugnabile l'amore attivo ma questo è da capo un problema e quale problema quale problema vedete io ho tanto amore per il genere umano che mi credete a volte fantastico di strapparmi da tutto da tutto ciò che posseggo abbandonare l'ise e andare a fare la suola di misericordia se chiudo gli occhi penso è fantastico e in quei momenti sento in me una forza indomabile nessuna ferita nessuna piaga purulenta riuscirebbe a spaventarmi vorrei fasciarle lavarle con le mie mani vorrei stare al capezzale di chi soffre sarei pronta a baciarle quelle piaghe ed è già molto ed è bene che la vostra mente fantastichi di queste cose anziché di tutt'altro ma no no non può essere tutto qui anche così all'impensata voi farete effettivamente qualche buona azione sì ma per quanto tempo sarei capace di reggere a una vita simile con calore e quasi con irruenza continuò la signora ecco la questione principale questa è per me la questione più tormentosa di tutta io so chiudo gli occhi e mi domando sarei capace di resistere a lungo per una via come quella e sei malato a cui tu lavi la piaga non ti risponderà subito con la gratitudine anzi comincerà a tormentarti con le stranezze senza apprezzare senza dar preso ai tuoi servizi umanitari e comincerà a gritarti contro a chiederti sgarbatamente le cose e magari a lamentarsi di te con qualcuno dei superiori come infatti succede spesso con quelli che soffrono molto che ne sarà allora durerà il tuo amore o no ed ecco figuratevi che rabbrividendo io mi sono già data una risposta precisa se c'è qualche cosa che potrebbe raccelare subito il mio amore attivo per l'umanità questo è unicamente l'ingratitudine io sono insomma un'operaia che lavora per la paga io esigo immediatamente la paga quale a dire le lodi e l'amore in cambio dell'amore altrimenti non c'è nessuno che io sia capace di amare la signora si trovava in un accesso del più sincero autodisprezzo e quando ebbe terminato fissò lo star con uno sguardo di risolutezza e quasi di sfida questo è punto per punto quanto mi diceva molto tempo fa un dottore commentò lo star era ormai un uomo vissuto ed indiscutibile ingegno parlava anche lui francamente come fate voi ma intorno di motteggio sebbene si trattasse di un motteggio amaro io diceva amo l'umanità ma resto scomentato di me stesso quanto più amo l'umanità in genere tanto meno amo gli uomini in particolare intendo presi uno a uno come individui distinti non di rado fantasticando sono arrivato diceva a ideare strani disegni di servire l'umanità e forse effettivamente sarei salito sulla croce per gli uomini se a un certo punto per ipotesi questo fosse stato necessario eppure non sono capace di abitare due giorni di seguito nella stessa camera con un altro come so per esperienza appena un altro mi sta vicino ecco che subito la sua personalità esercita un'oppressione sul mio amor proprio e soffoca la mia libertà in capo 24 ore si trattasse pure del miglior uomo del mondo io divento capace di odiarlo uno perché è lento a mangiare a tavola un altro perché è raffreddato e non finisce mai di soffiarsi il naso io diceva divento odiatore degli uomini non appena quest'ora mi vengono a contatto in compenso mi è sempre avvenuto che quanto più odio ho sentito per i singoli tanto più ardente se fatto il mio amore per l'umanità in generale ma allora che fare che fare se le cose stanno così non c'è che da abbandonarsi alla disperazione no perché è già abbastanza che questo vi cruci fate quel che potete e ve ne sarà tenuto conto e in voi del resto molto è già fatto dato che siete giunta a una così profonda e verace conoscenza di voi stessa e se poi ora con me aveste parlato tanto sinceramente non per altro che per ricevere ora e da me un elogio della vostra veracità allora senza dubbio non riuscirete a nulla nei vostri tentativi d'amore attivo e rimarrete confinata nei vostri vagheggiamenti e la vita intera vi scivolerà come un miraggio di questo passo intendiamoci bene verrete a scordarvi anche della vita futura e finirete col trovare un modo o l'altro di mettervi in pace per vostro conto voi mi avete schiacciata soltanto adesso appunto in quest'attimo in cui mi stavate parlando ho capito che effettivamente io non aspettavo altro che d'essere elogiata della mia sincerità mentre vi venivo dicendo che non sono capace di sopportare l'ingratitudine voi mi avete strepato la parola di bocca mi avete colto in fragrante e mi avete chiarita a me stessa dite davvero ebbene dopo un tale riconoscimento da parte vostra io credo definitivamente che voi siate sincera e di buon cuore se non perverrete alla felicità ricordatevi sempre che vi trovate sulla buona strada e sforzatevi di non uscirne soprattutto evitate la menzogna qualsiasi menzogna e la menzogna verso voi stessa principalmente vigilate sulla vostra menzogna ed esaminatela attentamente ogni ora ogni minuto badate pure di non credere al disgusto sia verso gli altri sia verso voi stessa ciò che in voi stessa vi appare sordido per il solo fatto che ve ne siete resa conto verrà a purificarsi allo stesso modo non cedete alla paura benché la paura non sia altro che la conseguenza di qualsiasi menzogna non speventatevi mai della vostra debolezza nel tendere all'amore e anzi perfino le vostre cattive azioni non vi spaventino troppo mi dispiace che non posso dirvi nulla di più consolante da che l'amore attivo a paragone di quello fantastico è una cosa assai dura e austera l'amore fantastico brama estrinsecazioni rapide che vengano presto soddisfatte e che attraggono gli sguardi di tutti e così si arriva al punto che magari si darebbe la vita purché non si andasse troppo per le lunghe e si facesse per le spizze come in una rappresentazione teatrale e tutti intanto stessero a guardare e a battere le mani l'amore attivo invece è fatica e continenza e per alcuni addirittura se si può dire una scienza vera e propria ma fin da ora vi dico che in quello stesso istante in cui con orrore vi accorgerete che nonostante tutti i vostri sforzi non solo non vi sarete avvicinati alla meta ma anzi ve ne sarete in certo quel modo allontanata in quello stesso istante vi lo dico fin da ora voi di colpo avrete raggiunto la meta e scorgerete chiaramente su di voi la miracolosa forza del Signore che nel frattempo non ha mai cessato di amarvi e di guidarvi in segreto perdonatemi se non posso più a lungo trattenermi con voi che c'è chi mi aspetta arrivederci la signora piangeva lisa lisa beneditemi lei beneditemela l'improvviso si lanciò innanzi con tutta la persona oh lei non vale pure la pena di amarla l'ho vista che non ha smesso un momento di farla birichina scherzosamente disse lo starez che motivo avevate voi di seguitare a ridere di Alexei elisa infatti in tutto questo frattempo non sarà dedicata ad altro che a quel tiro mancino già da un pezzo fin dalla volta scorsa essa sarà veduto che Agiosha si turbava di lei e che cercava di non guardarla ed ecco che appunto questo aveva cominciato a divertirla immensamente con gli occhi ben spalancati essa aspettava e coglieva a volo lo sguardo di lui Agiosha non sostenendo quello sguardo puntato così fisso su di lei faceva faceva e poi a un tratto senza volerlo spinto da una forza irresistibile girava lui stesso lo sguardo su lei e allora subito lei si metteva a ridere guardandolo negli occhi con un sorriso di trionfo Agiosha si confondeva e si esasperava peggio che mai alla fine sarà voltato da tutt'altra parte e sarà appiattato dietro alla schiena dello starez ma di lì qualche minuto di nuovo trascinato da quella irresistibile forza si era girato a guardare se lo osservassero e aveva visto che Lisa sollevata quasi del tutto dalla poltrona lo sbirciava di scancio e stava là col fiato sospeso ad aspettare il momento che lui l'avrebbe guardata e non appena ebbe colto lo sguardo di lui scoppiò a ridere in modo che anche lo Starec non poteva fare a meno di dire perché burlona svergognate così la gente Lisa tutta un tratto come nessuno avrebbe previsto si fece rossa le sfavillarono gli occhi il viso le diventò profondamente serio e in un tono discottante risentita protesta ruppe a dire in fretta nervosamente e lui allora perché si è scordato di tutto lui quando io ero piccola mi portava in braccio giocavamo sempre insieme veniva per casa a insegnarmi a leggere lo sapete voi due anni fa prendendo congedo disse che non ci avrebbe scordato mai che saremmo rimasti per sempre amici per sempre per sempre ed ecco che adesso tutto a tratto lui ha paura di me come se io non so dovesse mangiarlo che ha che non vuole accostarsi discorrere per benino perché non vuole venire a trovarci forse siete voi che non lo lasciate uscire eppure vedete noi sappiamo che lui vada per tutto non sarebbe conveniente che io lo invitassi dovrebbe essere il primo lui a rammentarsene se non ci avesse scordate ma che lui ora vada a salvarsi l'anima voi non so perché gli avete infilato addosso questa tonaca lunga lunga se si mettesse a correre cascherebbe ed improvviso non frenandosi più essa si chiuse il viso fra le mani e scoppiò a ridere violentemente irresistibilmente col suo lungo riso nervoso sussultante silenzioso la Starec che era stato a sentirla sorridendo le impartì con tenerezza la benedizione e lei quando si fece abbaciargli la mano d'un tratto se la premette contro gli occhi e ruppe in lacrime dicendo voi non vi inquietate con me sono una stupida non valgo niente e Agiosha forse ha ragione ha proprio ragione a non voler venire da una burlona simile immancabilmente lo manderò troncò lo Starec e così sia e così sia l'assenza dello Starec dalla cella sarà prolungata per circa 25 minuti era ormai la mezza passata ma Dmitri Piotrovic per il quale tutti erano convenuti qui non si vedeva ancora si sarebbe detto però che di lui si fossero quasi tutti scordati e quando lo Starec rientrò nella cella trovò i suoi ospiti tutti impegnati in una vivacissima conversazione nella conversazione avevano una parte di primo piano Ivan Fiodorovic e i due ieromonaci interventi frequenti e pieni di calore erano dovuti anche a Miusov ma ancora una volta egli non veniva a capo di nulla rimaneva evidentemente in un secondo piano e anzi gli rispondevano appena col solo risultato da cui irrepeggio la sua sempre crescente irritazione il fatto era che già altre volte con Ivan Fiodorovic egli si era punzecchiato per ambizioni di cultura e quella certa traspuranza che il giovane gli dimostrava gli riusciva impossibile a sopportare serenamente fino ad oggi perlomeno sono stato al corrente di tutto quello che c'è di più progredito in Europa ma questa nuova generazione decisamente ci ignora pensava di se stesso Fiodor Poulovich che di sua iniziativa aveva dato la parola di starsene lì seduto e tacere per un po' aveva tociuto effettivamente ma con un sorriso ironico osservava intanto il suo vicino Piotr Aleksandrovich e si compiaceva visibilmente nel suo stato di irritazione già da gran tempo vegli covava il desiderio di fargli pagare pan per focaccia e ora non voleva davvero lasciarsene sfuggire l'occasione alla fine non sape più trattenersi si curvò alla spalla del vicino e a mezza voce tornò a dirgli con sarcasmo vorrei sapere per quale ragione poc'anzi non siete uscito di qui dopo quell'amorevolmente sì la baciò e avete consentito a rimanere in una così cattiva compagnia senza dubbio è perché vi siete sentito mortificato e offeso e così siete rimasto per rifarvene dimostrando il vostro ingegno e ora certo non ve ne andrete finché questo vostro ingegno non ce l'avrete ben dimostrato ancora voi me ne andrò subito invece più tardi più tardi di tutti sgombererete di qui lo punse ancora una volta Fiodor Paolovic questo avveniva proprio quasi nel momento che lo Starec rientrava la disputa per un istante cessò ma lo Starec sedendo al posto di prima avvolse tutti d'un'occhiata che era un affabile invito a continuare Aliosha che aveva imparato a interpretare quasi ogni espressione del suo viso vide chiaramente che egli si sentiva terribilmente stanco e faceva forza a se stesso in quest'ultimo periodo della sua malattia l'estenuazione gli provocava spesso dagli svenimenti e quasi appunto quello stesso pallore che precedeva quegli svenimenti si era diffuso ora sul suo viso e le labbra gli si erano sbiancate ma egli non voleva evidentemente congedare l'accolta e si sarebbe detto che inoltre avesse di mira qualche suo scopo quale mai Aliosha lo teneva ad occhio con grande attenzione si parlava del suo interessantissimo articolo disse lo ieromonaco Iosif rivolgendosi allo star cioè accennandogli a Ivan Fiodorovic perviene a molte conclusioni nuove se non che mi sembra si tratta di un'idea a doppio taglio affrontando la questione dei tribunali ecclesiastici e della estensione dei loro poteri ha risposto con un articolo di giornale a un esponente del clero che aveva scritto su tale questione né più né meno che un libro sono dolente di non aver letto il vostro articolo ma ne ho sentito parlare rispose lo star e con uno sguardo penetrante fissava Ivan Fiodorovic il signore si pone da un angolo visuale di grandissimo interesse continuò il padre bibliotecario è chiaro che rigetta recisamente nel problema del tribunale ecclesiastico la divisione fra chiese e stato questo è interessante ma in che senso bisogna intenderlo lo star ci domandò Ivan Fiodorovic questi finalmente gli rispose ma non con quel tono d'altezzosa deferenza che fin da ieri metteva in apprensione agli oscia bensì con modestia e discretezza con cortesia indubbia ed evidentemente senza ombre di riserva mentale io parto dalla premessa che la mescolanza di questi elementi cioè della chiesa e dello stato come entità presa a sé sarà in fondo eterna nonostante il fatto che essa sia assurda e che non sarà mai possibile ridurla a una sistemazione non dico normale ma in qualche modo coerente già che il falso è inerente alla radice stessa della cosa un compromesso fra lo stato e la chiesa in questioni come per esempio questa dell'amministrazione della giustizia è a mio parere considerato nella sua essenza impossibile la personalità ecclesiastica alla quale io ho risposto afferma che la chiesa occupa un posto preciso e ben delimitato nell'ambiente dello stato io dal canto mio gli ho ribattuto che al contrario la chiesa deve includere in sé tutto lo stato e non già occupare in quest'ultimo un angolo e non più e che se ora la cosa non è possibile ciò non toglie che a considerare l'essenza della questione è assolutamente necessario porsi questo come fine diretto e precipuo di tutto lo svolgimento avvenire della società cristiana perfettamente giusto in tono deciso nervoso esclamò padre paesì il taciturno ed erudito ioromonaco ultramontanismo della più bell'epoca proruppe miusof impazientemente accavallando una gamba sull'altra ma se da noi le montagne non ci sono neppure esclamò padre iosif e rivolgendosi allo steric continuò egli risponde fra l'altro alle seguenti fondamentali ed essenziali affermazioni dell'oppositore che è notate un membro del clero primo che nessuna associazione pubblica possa o debba arrogarsi la facoltà di datare legge sui diritti civili e politici dai suoi membri secondo che l'amministrazione della giustizia penale e civile non debba appartenere alla chiesa e sia inconciliabile col carattere di questa sia come istituzione divina sia come associazione di uomini a fini religiosi e in terzo luogo finalmente che la chiesa sia un regno che non è di questo mondo banalissimo gioco di parole sulle labbra ad un ecclesiastico scattò e intervenne di nuovo padre paisii io ho letto cotesto libro che voi avete confutato si riposse a Ivan Fiodorovich e sono rimasto meravigliato a vedere come un membro del clero abbia potuto dire la chiesa è un regno che non è di questo mondo e se non è di questo mondo allora significa che sulla terra essa non può sussistere affatto nei santi evangeli le parole non è di questo mondo sono usate in tutt'altro senso giocare su queste parole non è possibile nostro signore gesù cristo è appunto venuto a fondare la chiesa sulla terra il regno dei cieli ben si intende non è di questo mondo è in cielo ma non c'è modo di entrare in esso se non attraverso la chiesa è stata fondata e istituita sulla terra e perciò i calenbur della gente di mondo diretti a interpretare in quel modo queste parole sono assurdi e indegni la chiesa in realtà è un vero e proprio regno ed è stata destinata a regnare e nella pienezza sua dovrà manifestarsi a guisa di regno su tutta la terra questo è indubbio e ne abbiamo la promessa improvviso agli tacque come se si trattenesse Ivan Fyodorovic che lo aveva ascoltato con deferenza e attenzione straordinariamente calmo continuò col tono ben disposto e semplice di poc'anzi rivolgendosi allo Starec l'idea del mio articolo è tutta qui che nel remoto periodo dei primi tre secoli il cristianesimo si è presentato sulla terra unicamente come una chiesa ed è stato unicamente una chiesa quando poi lo stato di Roma pagano vuole divenire cristiano era inevitabile che divenuto tale esso non facesse che includere nel suo recinto alla chiesa e in sostanza continuasse a rimanere lo stato pagano che era stato finora almeno nella gran maggioranza delle sue esplicazioni in realtà così senza dubbio dovette trasvolgersi le cose ma in Roma in quanto stato troppo imponente era il residuo della civiltà e della sapienza pagane come ad esempio nei fini stessi e nei fondamenti dello stato dal canto suo la chiesa di Cristo facendo il suo ingresso nello stato non poteva certamente traglignare di un filo dai fondamenti suoi da quella pietra sulla quale posava e non poteva che perseguire i suoi fini specifici quelli che una volta per sempre il Dio stesso le aveva posto e additato convertire in chiesa il mondo intero e quindi anche tutto l'antico stato pagano la norma di questo cioè in vista degli ultimi fini non la chiesa deve cercarsi un posto delimitato nello stato come una qualsiasi associazione pubblica o come un'associazione di persone a fini religiosi così si assimile a proposito della chiesa l'autore che io confuto ma al contrario qualsiasi stato terreno dovrebbe finire col risolversi in chiesa senza residui e non sussistere in nessun'altra forma che come chiesa dopo aver rigettato ogni specie di fini suoi propri inconciliabili con quelli della chiesa né è da credere che tutto questo lo abbasserà in qualche modo li toglierà l'onore o la gloria di grande stato o impedirà la gloria dei suoi governanti anzi non farà altro che riportarlo dalla falsa strada ancora satura di paganesimo sulla strada retta e verace la sola che conduca alle mete eterne ecco perché l'autore del libro sui fondamenti della giustizia ecclesiastica sarebbe stato nel giusto se nell'investigare ed esporre codesti fondamenti li avesse considerati come un temporaneo compromesso ancora inevitabile nella nostra epoca di peccato e di imperfezione ma nulla più che questo e quando poi l'autore di questi fondamenti osa dichiarare che i principi da lui esposti una parte dei quali si ha enumerato orora padre iosif sono principi incrollabili assoluti e sempiterni allora senz'altro gli va contro la chiesa e contro la santa sempiterna e incrollabile sua destinazione ecco tutto il mio articolo in uno scorso esauriente ossia per dir tutto in due parole intervenne ancora una volta padre paisi da una parte ci sono le teorie pullulate a bizzeffe in questo diciannovesimo secolo secondo le quali la chiesa dovrebbe trasformarsi nello stato come una fase più bassa in una più alta per quindi dissolversi in esso cedendo il passo alla scienza allo spirito moderno e alla civiltà se poi non volesse ridurvisi e recalcitrasse e verrebbe riservato nel recinto dello stato un certo ben definito angoletto e per di più sotto sorveglianza è quanto ai tempi nostri avviene dovunque nelle nazioni europee dall'altra parte abbiamo la concezione e la fede russe che non già la chiesa debba trasformarsi nello stato come una forma più bassa e non una più elevata ma anzi che lo stato debba finire col trovar giusto di sussistere unicamente sotto forma di chiesa e nulla al di fuori di questo e così sia e così sia beh vi confesso che ora mi avete ridato un po' di coraggio ridacò Mewsoff di nuovo accavallando una gamba sull'altra se ho bene inteso si tratta insomma della realizzazione di un ideale infinitamente lontano da rimandare al secondo avvento queste sono cose in cui si è padroni di pensarla come si vuole è il magnifico sogno utopistico della abolizione delle guerre delle diplomazie delle banche eccetera eccetera siamo direi sullo stesso piano del socialismo ma io credevo invece che si trattasse di qualcosa di serio e che la chiesa adesso volesse per esempio giudicare un dato crimine e condannare alle verghe alla reclusione o magari se fosse il caso all'esecuzione capitale ma se anche adesso per l'appunto non ci fosse che un unico tribunale ecclesiastico civile anche adesso la chiesa non manderebbe mica ai lavori forzati o alla pena di morte il reato e il modo di considerarlo dovrebbero indubbiamente in tal caso subire un mutamento graduale si intende non già improvviso e immediato ma in ogni modo abbastanza sollecito calmo senza batter ciglio asserì Ivan Fyodorovic voi parlate sul serio lo guardò fisso Niusov se tutto divenisse chiesa allora la chiesa espellerebbe da sé tutto quanto fosse criminoso e ribelle e avrebbe altro da fare che tagliar delle teste ripresa Ivan Fyodorovic ditemi infatti dove potrebbe andare l'espulso costui si troverebbe costretto allora non solo a ritirarsi dagli uomini come oggi ma anche da Cristo col suo delitto costui non si ribellerebbe soltanto agli uomini ma anche alla chiesa di Cristo certo a rigor di termini questo avviene anche ora ma non in modo palese è la coscienza di chi ora commette un crimine assai di frequente viene con sé stessa ad accomodamenti di questo genere ho rubato sia pure ma contro la chiesa non ho mica fatto niente a Cristo non gli sono davvero nemico ecco quel che dice a sé stesso senza tanto andare per il sottile che oggi commette un crimine ma allora quando la chiesa avesse preso il posto dello Stato allora riuscirebbe difficile a costui dirsi così a meno di non condannare la chiesa intera spiegata su tutta la terra tutti dovrebbe dire si sbagliano tutti tralignano tutta la chiesa è nell'errore ed io solo assassino e ladro sono la vera chiesa di Cristo sarebbe mi pare molto difficile dire questo a se stessi richiederebbe condizioni straordinarie circostanze che di rado si verificano allora dall'altro lato considerate la concezione che la chiesa stessa ha del delitto non ha forse bisogno di modificarsi rispetto a quella attuale quasi pagana ed a una meccanica amputazione del membro infetto quale si pratica ora per la sicurezza della società trasfigurarsi e non a parole nell'idea di una rigenerazione dell'uomo della sua resurrezione e della sua salvezza ma insomma di che si tratta io di nuovo cesso di capire interruppa miusof di nuovo mi trovo di fronte a non so che fantasticheria qualche cosa di informe e chi ci si raccapezza è bravo in che senso parlate di espulsione di quale espulsione si tratta io ho il sospetto che voi vi stiate divertendo Ivan Piotolovic ma se badiamo in realtà anche ora avviene lo stesso intervene d'improvviso lo starch e subito tutti si rivolsero a lui e infatti se ora non esistesse la chiesa di Cristo non ci sarebbe per il criminale né alcun freno al malaffare né alla presaglia in seguito intendo la presaglia reali non già meccaniche come ha detto ora il signore le quali ultime non hanno per più altro effetto che disacerbare il cuore rappresaglie reali le sole operanti le sole capaci di infondere terrore e di pacificare identificandosi con il verdetto della propria coscienza e in che modo avrebbe questo se non vi dispiace con la più viva curiosità domandò Musov ecco in che modo cominciò lo Starec tutti questi lavori forzati e prima addirittura sono dibastonate non correggono nessuno e soprattutto non c'è quasi nessun malfattore che ne sia spaventato cosicché il numero dei misfatti non solo non diminuisce ma più il tempo passa più aumenta mi pare che in questo voi dobbiate pur consentire e il risultato è che la società in questo modo ben tutt'altro che tutelata già che seppure il membro nocivo meccanicamente si amputa e si trasporta lontano fuori di vista subito al posto suo rampolla un altro malfattore o magari altri due se c'è qualche cosa che alla meglio tuteli la società anche all'epoca nostra e che anzi riesca a correggere il delinquente e a generare in lui un uomo nuovo questo è pur sempre unicamente la legge di Cristo che parla attraverso il verdetto della propria coscienza solo riconoscendo la propria colpa in quanto figlio della società di Cristo cioè della Chiesa il criminale riconosce la propria colpa di fronte alla società stessa ossia di fronte alla Chiesa di modo che è unicamente di fronte alla Chiesa che il criminale del nostro tempo perviene a riconoscere la propria colpa e non già di fronte allo Stato ed ecco che se l'amministrazione della giustizia appartenesse a una società come la Chiesa essa saprebbe allora chi fa rientrare nel suo grembo dalla segregazione per lasciarlo di nuovo aderire a lei invece la Chiesa negato come le è qualsiasi effettivo potere di giudicare è ridotta ad avere la sola possibilità del giudizio morale viene anch'essa a trovarsi lontana da una reale rappresaglia sul colpevole non espelle costui da sé ma si limita a non fargli mancare la sua paterna assistenza non solo ma cerca addirittura di mantenere in tutto fra sé e il reo la comunione cristiana carismatica lo lascia partecipare alle funzioni ecclesastiche al mistero eucaristico gli tributa l'elemosina e lo tratta piuttosto come un prigioniero che come un colpevole ma che cosa sarebbe mai del malfattore se Dio mio anche la società dei cristiani cioè la Chiesa lo respingesse da sé a quel modo che lo respinge e lo recide la legge civile che cosa avverrebbe se anche la Chiesa lo condannasse automaticamente con la sua espulsione non appena la legge dello Stato avesse pronunciato la sua condanna ma certo che disperazione più grande non potrebbe esservi almeno per il criminale russo già che i criminali russi sono ancora credenti e del resto chissà potrebbe verificarsi allora una cosa tremenda potrebbe seguirne la perdita della fede nel cuore disperato del malfattore e allora ma la Chiesa madre tenera e amorosa da un castigo effettivo rifugge per sua natura dato che anche senza il suo castigo il colpevole è già troppo duramente punito dallo giustizia dello Stato e bisogna pure che qualcuno ne abbia pietà e soprattutto poi ne rifugge perché il giudizio della Chiesa è un giudizio che unico fra tutti racchiude in sé la verità e di conseguenza non può per essenza e per ragioni morali mischiarsi con giudizi di qualsiasi altra natura forse anche in compromessi temporanei è un punto questo su cui non si può adire a transazioni negli altri paesi a quanto si dice è raro che il malfattore giunga al pentimento perché il suo delitto non è un delitto ma sì unicamente una ribellione contro una forza che ingiustamente lo opprime la società lo recide da sé con una forza che trionfa di lui in modo puramente meccanico e accompagna questa espulsione con l'odio così almeno gli europei confessano di loro stessi la accompagna con l'odio e con la più profonda indifferenza col più completo oblio dell'ulteriore destino di questo comune fratello e in tal modo tutto si svolge senza ombre di commiserazione da parte della chiesa dato che nella maggior parte dei casi in quei paesi chiese non ne sussistono affatto e ne sono rimasti soltanto i ministri o i sontuosi edifici mentre le chiese in se stesse aspirano già da gran tempo ad evolversi dalla forma inferiore cioè quella di chiesa alla forma superiore cioè quella di stato per poi dissolversi interamente in quest'ultima così almeno pare che stia accadendo nei paesi luterani a Roma poi sono già mill'anni che al posto della chiesa è stato proclamato lo stato e così avviene che il criminale non riconosce più in se stesso un membro della chiesa e segregato dagli altri cade in preda alla disperazione se poi riesce a far ritorno alla società è quasi sempre con un odio tale che la società stessa quasi naturalmente viene a separarsi da lui come vada a finire la cosa potete arguirlo da voi in molti casi si potrebbe dire anche da noi accade lo stesso ma il divario è questo che oltre ai tribunali costituiti da noi c'è anche la chiesa la quale non tronca mai la comunione correo come quello che è un caro e pur sempre diletto figlio suo non solo ma c'è e si conserva seppure soltanto idealmente anche il giudizio della chiesa che nel presente non è effettivo sì ma è vivo pur sempre per l'avvenire forse pure in modo nebuloso e poi è riconosciuto valido dal reo senza incertezze per un moto istintivo della sua anima e indubbiamente è vero ciò che orora è stato detto qui che se effettivamente fosse instaurata una giustizia ecclesiastica in tutto il suo vigore vale a dire se tutta la società si tramutasse né più né meno che in chiesa allora non solo il giudizio della chiesa eserciterebbe sul reo un'influenza emendatrice quale non si riesce mai ad esercitare attualmente ma forse in realtà i delitti stessi diminuirebbero in proporzioni sorprendenti e poi la chiesa si può esserne certi avrebbe in molti casi una comprensione del futuro reo e del futuro delitto assai diversa che non se ne abbia ora e saprebbe riaprir le braccia all'espulso e prevenire il malintenzionato e rigenerare il caduto è vero lo sta recebbe un sorriso ora la società cristiana non è ancora preparata a questo e poggia soltanto sui sette giusti ma siccome questi non cedono tutto permane incrollabilmente nell'attesa della integrale trasfigurazione della società raggruppamento quasi ancora pagano in un'unica e universale chiesa sovrana e così sia così sia fosse pure alla fine dei secoli già che appunto questo è stato predetto che deve compiersi né bisogna darsi la pena dei tempi e dei termini già che il mistero dei tempi e dei termini è nella sapienza di Dio nella providenza di Lui e nel suo amore e ciò che secondo il calcolo dell'uomo può sembrare ancora molto lontano nella predestinazione divina e forse già alla vigilia del suo avvento e alle porte e così sia per l'appunto così sia così sia così sia devotamente e con austerità incalzò padre Paisi è strano estremamente strano proruppe Miusov e non già con impeto ma con una specie di segreto disappunto che cosa mai vi sembra tanto strano cautamente si informò padre Iosif ma di che si tratta alla fine esclamò Miusov come se di improvviso non si tenesse più si abolisce sulla terra lo stato e la chiesa viene innalzata al livello dello stato altro che ultramontanismo questo è un arci ultramontanismo è roba che non se l'è sognata nemmeno Papa Gregorio VII la cosa va intesa completamente all'inverso se veramente ribattei padre Paisi non è la chiesa che si tramuta in stato intendetelo bene questo è vero di Roma e nel suo miraggio è la terza tentazione del diavolo questa al contrario anzi lo stato si tramuta in chiesa si innalza il grado di chiesa e divia in chiesa su tutta la terra cosa che è tutto opposto sia all'ultramontanismo sia di Roma sia dell'interpretazione vostra ed è semplicemente le sublime vocazioni della chiesa ortodossa in questo mondo dall'oriente il mondo intero sarà illuminato Musov taceva con aria di sussiego tutta la sua figura aveva un'espressione eccezionalmente dignitosa un'altezzosa condiscendenza sorrideva sulle sue labbra Aglioscia osservava ogni cosa col cuore che gli batteva forte quest'ambiente che si veniva così riscaldando lo agitava fino alle radici dell'essere per caso allungò un'occhiata a Rakitin quello se ne stava là dritto immobile al posto di prima accanto alla porta e attentamente andava ascoltando e osservando tutto seppure a occhi bassi ma al colorito acceso delle sue guance Aglioscia indovinò che Rakitin stava agitato e forse non meno di lui e sapeva Aglioscia che cosa fosse ad agitarlo permettetemi di riferirvi un piccolo aneddoto signori pieno di sussiego e dandosi un'aria di particolare importanza venne fuori a un tratto Miusov a Parigi sono ormai parecchi anni subito dopo la rivoluzione di dicembre mi accadde una volta facendo visitare ad amicizia un personaggio assai influente che allora era ai posti di comando di incontrare nel suo salotto un signore interessantissimo era costui non già un semplice poliziotto ma una specie di capo di tutta una sezione di poliziotti politici insomma nel suo genere una carica ad una certa importanza cogliendo a volo l'occasione io con straordinaria curiosità ci attaccai discorso e siccome egli si trovava lì non già come un conoscente ma in qualità di sottoposto venuto a recare non so che rapporto così appena vide in che modo io ero accolto dal suo superiore mi degnò di una certa confidenza intendiamoci fino a un dato segno era cioè piuttosto cortese che aperto di quella cortesia per l'appunto che i francesi sanno avere tanto più che vedeva in me uno straniero ma io li leggevo dentro da parte a parte la conversazione saggirava sui rivoluzionari socialisti che allora come tant'altri venivano perseguitati omettendo la sostanza del discorso riporterò soltanto un'osservazione interessantissima che questo riverito signore si lasciò sfuggire a un certo punto noi disse di tutti questi socialisti anarchici di tutti quei statei rivoluzionari non abbiamo mica gran paura li teniamo d'occhio e le loro peste ci sono note ma ci sono fra essi benché rari degli individui eccezionali sono quelli che credono in Dio e sono cristiani ma nello stesso tempo sono socialisti costoro sì che li temiamo più di tutti codesta è una gente terribile il socialista cristiano è più terribile del socialista senza Dio queste parole mi colpirono anche allora ma qui tra voi signori mi sono a un tratto non so come tornate in mente vale a dire che le applicate a noi e in noi vedete dei socialisti francamente senza invagio domandò padre Paesì ma prima che Piotr Aleksandrovich concepisse la risposta da dare si spalancò la porta ed entrò dopo tanto ritardo Dmitri Piotrovich a dire il vero non lo attendevano più e il subitaneo apparire di lui produsse lì per lì perfino un certo stupore che vide a fare un uomo simile Dmitri Piotrovich giovanotto di 28 anni di media statura e di viso piacevole sembrava però d'età assai maggiore che non fosse era muscoloso e si poteva indovinare in lui una notevole forza fisica eppure nell'espressione del suo viso c'era anche di poco sano il suo viso era scarno le guance afflosciate e il colorito gli cangiava in un giallo malaticcio piuttosto grandi e scuri gli occhi sporgenti guardavano magari con ferma insistenza ma c'era in esse una certa vaghezza perfino quando si agitava e parlava con virulenza il suo sguardo trovava modo di non soggiacere alla disposizione dell'animo ed esprimeva qualcosa ad altro a volte nel più completo disaccordo col momento non è facile indovinare a che cosa egli pensi esclamavano sovente coloro che discorrevano con lui alcuni che avevano colto nei suoi occhi un che di assorto e di tetro erano poi di colpo sorpresi dal repentino riso di lui che testimoniava degli allegri e giocosi pensieri che volgeva nell'intimo mentre appunto dimostrava tanta tetragine quanto poi a quel certo aspetto di poca salute che aveva sul viso in questo momento poteva riuscire più che spiegabile c'è che tutti sapevano avevano sentito parlare della sua vita straordinariamente requieta e piena di disordini a cui appunto in questi ultimi tempi sarà dato dimorando fra noi come del pari era noto a tutti a che punto di esasperazione egli si spingesse nelle dispute col padre a proposito del denaro conteso in città correvano ormai su questo argomento parecchi aneddoti per non dire che già di natura era incline alla collera un cervello balzano e storto secondo la caratteristica definizione che di lui aveva dato il nostro giudice conciliatore Samen Ivanovich Kachalnikov in un cerchio di amici entrò inappuntabilmente elegantemente vestito in sopravvito chiuso a guanti neri e cilindro in mano la militare testa è congedato portava i baffi e teneva rasa la barba i suoi capelli di un biondo scuro erano tagliati corti e pettinati alle tempie con certi ciuffi rivolti in avanti il suo passo era deciso lungo soldatesco un istante restò fermo sulla soglia e abbracciati tutti con lo sguardo senz'altro si diresse verso lo starec nel quale aveva ravvisato il padron di casa gli fece un inchino profondo e gli chiese la benedizione lo starec levatosi in piedi lo benedisse dmitri fiodorovic devotamente gli baciò la mano e con strana agitazione quasi irritato disse abbiate la bontà di perdonare se mi sono fatto aspettare tanto ma il nostro servitore smerdyakov mandato dal babbo alle mie insistenti domande sull'ora dell'appuntamento mi ha risposto due volte con la più gran sicurezza che era fissato per luna ora io d'improvviso vengo a sapere non mi inquietate lo interruppe lo starec non fa nulla avete tardato un pochino non è caduto il mondo mi sono infinitamente grato e non potevo aspettarmi di meglio della vostra bontà detto questo dmitri Fyodorovic fece un altro inchino quindi di scatto girandosi sul lato del suo babbo fece anche a lui altrettanto rispettoso e profondo un inchino era evidente che aveva già meditato con questo inchino e ci aveva pensato in purità di cuore ritenendosi obbligato a esprimere in tal modo la sua deferenza e le sue buone intenzioni Fyodor Paolovic men che imbarazzato così a bruciapelo subito si riprese dirimando all'inchino di Dmitri Fyodorovic salto su della poltrona e rispose bel bello al figlio con un inchino altrettanto profondo il viso gli sarebbe fatto di improvviso grave e compunto col risultato che gliene veniva soltanto un'espressione decisamente cattiva quindi ossequiati con un unico inchino tutti gli astanti Dmitri Fyodorovic con i suoi grandi passi risoluti si accostò alla finestra si sedette sulla sola sedia rimasta poco lontano da padre Pasi e con tutta la persona sporgentesi in avanti dalla sedia si fece subito ad ascoltare il seguito della conversazione da lui interrotta il sopraggiungere di Dmitri Fyodorovic non aveva preso più di un paio di minuti e la conversazione non poteva non riannodarsi ma stavolta a quell'incalzante e quasi riservata domanda di padre Pasi Piotr Aleksandrovic non ritene necessario rispondere permettetemi di porre in disparte quest'argomento di segli con una certa mondana disinvoltura è oltretutto un argomento ben arduo ma ecco Ivan Fyodorovic che sorride guardandovi si vede che ha qualche cosa di interessante da dire anche su questo interrogatelo dunque niente di particolare tranne un piccolo rilievo immediatamente rispose Ivan Fyodorovic e cioè che in genere il liberalismo europeo e anche il nostro dilettantismo liberistico russo confonde spesso e da gran tempo i risultati finali del socialismo con quelli del cristianesimo questo assurdo accostamento è a guardar bene un tratto caratteristico del resto socialismo e cristianesimo non vengono confusi insieme come appare dai soli liberali e dilettanti ma in molti casi anche dai gendarmi voglio dire da quelli esteri si intende il vostro aneddoto parigino è abbastanza caratteristico Piotr Aleksandrovic sì ma questo è un argomento che di nuovo vi chiedo il permesso di tralasciare ripete Piotr Aleksandrovic e al posto di esso io vi racconterò signori un altro aneddoto su Ivan Piotr Aleksandrovic in persona interessante e caratteristico al massimo grado non più a lungo di cinque giorni fa in una riunione della nostra società elegante in cui prevalevano le signore egli discutendo dichiarò solennamente che a questo mondo non c'è assolutamente nulla capace di costringere gli uomini ad amare i propri simili che una legge di natura come quella per cui l'uomo dovrebbe amare l'umanità non esiste affatto e che se c'è e c'è stato finora dell'amore sulla terra non è dipeso da una legge di natura ma esclusivamente dal fatto che gli uomini hanno creduto nella propria immortalità Ivan Fiodorovic aggiunse poi fra parentesi che appunto a questo si riduce tutta quella legge di natura di modo che distruggetene gli uomini la fede nella propria immortalità e il suo fatto si stingerà in essi non soltanto l'amore ma anche ogni energia vitale atta a prolungare la vita nel mondo non basta in tale evenienza nulla sarebbe più immortale tutto sarebbe permesso perfino l'antropofagia e non basta ancora egli terminò con l'asserzione che per ogni individuo particolare come saremo noi qui il quale non creda né in dio né nell'immortalità della propria anima la naturale legge morale deve senza ritardo tramutarsi in qualcosa di totalmente opposto all'anteriore indirizzo religioso e l'egoismo spinto magari fino al delitto non soltanto deve essere permesso all'uomo ma addirittura riconosciuto come indispensabile come la più razionale e quasi la più nobile soluzione della situazione in cui si trova da un simile paradosso potete concludere signori miei anche su tutto l'altro che si benigna di predicare e che forse ha intenzione di predicare ancora il nostro carissimo eccentrico e paradossista Ivan Fiodorovic permettete inaspettatamente gridò a questo punto Dimitri Fiodorovic tanto per sapere se ho malinteso il delitto deve essere non soltanto permesso ma anzi riconosciuto come la più necessaria e la più razionale soluzione del problema di ogni ateo è così o mi sbaglio? è proprio così disse padre Pagigli me lo terrò a mente pronunciate queste parole Dimitri Fiodorovic repentinamente tacque come repentinamente era piombato nella conversazione tutti guardarono a lui con curiosità ma davvero voi nutrite una convinzione simile circa le conseguenze che avrebbe negli uomini l'estinzione della fede nell'immortalità dell'anima? improvviso allo stare ci domandò Ivan Fiodorovic sì io ho sostenuto questo non c'è virtù se non c'è immortalità beato voi se credete questo o piuttosto grandemente infelice e perché infelice? Ivan Fiodorovic ebbe un sorriso perché tutto mi fa pensare che non crediate voi stesso né all'immortalità dell'anima vostra né a quello che avete scritto della chiesa e del problema della chiesa può darsi che abbiate ragione ma tuttavia non ho parlato completamente per gioco di colpo stranamente confessò Ivan Fiodorovic senza un fugaccia rossore non avete parlato completamente per gioco questo corrisponde a verità è un'idea che non si è ancora risolta nel vostro cuore e lo fa soffrire ma anche chi soffre ama a volte trastullarsi con la propria disperazione come se servisse a liberarlo dalla disperazione così per disperazione anche voi vi venite trastullando ora con gli articoli di giornale ora con le discussioni in società senza che voi stesso crediate alla vostra dialettica col cuore che vi duole mentre fra voi sorridete di essa in voi questa questione non è risolta ed è qui il vostro grande dolore che imperiosamente essa esige una soluzione ma può avvenire che in me sia risolta sia risolta in senso positivo stranamente continuò a domandare Ivan e guardava pur sempre lo starch con un indecifrabile sorriso se non può risolversi in senso positivo certo non potrà mai risolversi neppure in senso negativo siete voi il primo a sapere che così fatto è il vostro cuore è tutto qui è ciò che lo tormenta ma ringraziate il creatore che vi ha dato un cuore così alto capace di soffrire di un tale tormento di meditare le cose celesti e le cose celesti cercare perché in cielo è la dimora nostra vi conceda ai dio che la soluzione di ciò che vi sta a cuore sia raggiunta da voi mentre ancora siete sulla terra e benedica ai dio il vostro cammino la stare ci levò la mano e fece per tracciare dal suo posto il segno della croce verso Ivan Fiodorovic ma questi bruscamente s'alzò dalla sedia si avvicinò a lui si lasciò impartire la benedizione e baciatagli la mano tornò in silenzio al suo posto aveva un aspetto deciso e serio questo modo d'agire e poi tutto il discorso che poc'anzi aveva tenuto lo stare e che non ci si sarebbe potuti aspettare da Ivan Fiodorovic ebbero l'effetto di sorprendere tutti enigmatici come erano e sfumati perfino ad una certa solennità tanto che tutti per un minuto restarono in silenzio mentre sul viso di Agliosha appariva un'espressione quasi di terrore ma Niusov bruscamente strolò le spalle e in quello stesso istante Fiodor Paolovic saltò su dal sedile sublime santissimo Starec peroluppe egli accennando a Ivan Fiodorovic è mio figlio questo carne della mia carne carne mia dilettissima egli è per così dire il mio molto onorevole Karl Moore mentre quest'altro che è entrato or ora Dmitri Fiodorovic e che è quello contro il quale io vi chiedo giustizia è il molto disonorevole Franz Moore tanto per paragonarli entrambi ai masnadieri di Schiller e io in questo caso io sarei né più né meno che il Regierender Graf von Moore giudicate voi ed aiutateci abbiamo bisogno non solo delle preghiere ma anche delle profezie vostre parlate senza stravaganze e non cominciate con l'offendere i vostri familiari rispose lo Starec con voce fievole estenuata evidentemente quanto più si sentiva spossato tanto più percettibile si faceva il mancargli delle forze è un indegna commedia che io già subodoravo nel venire qui proruppe Dmitri Fiodorovic con indignazione e anche lui era balzato in piedi perdonate venerando padre si rivolse allo Starec io sono un uomo poco raffinato e non so neppure come devo chiamarvi ma il fatto è che vi hanno tratto in inganno e voi troppo buono siete stato permettendo a noi di riunirci qui il babbo non cerca altro che lo scandalo a quale scopo non so avrà il suo tornaconto lui agisce sempre secondo il suo tornaconto ma se non sbaglio ora io so qual è il suo scopo tutti accusano me tutti quanti gridò a sua volta Fiodor Paolović ecco perfino Piotr Aleksandrovich mi accusa mi avete accusato Piotr Aleksandrovich mi avete accusato si voltò bruscamente a Miusov men che questi non pensassene pure a rimbeccarlo mi accusano di aver nascosto sotto il mattone il denaro dei figli ed essendolo arraffato netto netto ma scusate non c'è forse tanto di tribunale la potranno farvi il conto Mitri Fiodorovich in base ai vostri stessi registri alle vostre lettere e ai vostri contratti di quanto possedavate di quanto avete scellacquato e di quanto vi resta per qual motivo Piotr Aleksandrovich rifugge per l'intentare un processo Dimitri Fiodorovich non gli è mica un estraneo il motivo è che tutti ce l'hanno con me ma Dimitri Fiodorovich a tirare le somme si trova in debito verso di me e non di una piccolezza bensì di svariate carte da mille e io ne ho in mano tutte le prove la città intera stride e rintrona delle sue orge e laggiù dove prestava servizio laggiù dava via fino a mille e a duemila rubli per sedurre le ragazze oneste sono cose Dimitri Fiodorovich che noi conosciamo benissimo nei pointimi particolari e io ne adurrò le prove padre santo forse non lo crederete ha carpito l'amore della più nobile delle fanciulle di ottima famiglia agiata figlia del suo antico superiore un valoroso colonnello un uomo che ha ben meritato della patria che aveva il collo tanto di sant'anna con le spade ha compromesso la ragazza chiedendone la mano ora essa è qui ora è rimasta orfana e la sua fidanzata e lui sotto gli occhi di lei frequenta una seduttrice qui del posto ma seppure che questa seduttrice vivesse per dir così in un'unione civile con una persona di riguardo il suo carattere è indipendente è una fortezza inaccessibile per chi che sia né più né meno che se fosse una moglie vera e propria perché è una donna onesta sì signori padri santi è una donna onesta ma Dmitri Fiodorovic vorrebbe aprire questa fortezza con una chiave d'oro ed è questa la ragione per cui ora alza così la cresta contro di me e cerca di estorcermi del denaro mentre ha già buttato al vento le migliaia di rubli per questa seduttrice è una cosa che lo costringe ad accattare denaro senza cessa e fra l'altro da chi lo pensereste mai lo dico o non lo dico eh Mitia tacete gridò allora Dmitri Fiodorovic aspettate a dirlo quando io sarò uscito ma non osate la mia presenza insozzare con la nobilissima fanciulla c'è il fatto stesso che voi abbiate osato fare il nome di lei è un oltraggio al suo onore non permetto il respiro gli mancava Mitia Mitia istericamente spremendo dagli occhi qualche lacrima esclamò Fiodor Polovic o forse la benedizione paterna non conta nulla e se dunque io ti maledicessi che cosa avverrebbe pudorato a istrione fu ribondo Rugit Mitri Fiodorovic così tratta suo padre suo padre che sarà mai con gli altri signori figuratevi un po' c'è qui un povero ma rispettabile uomo un capitano in congedo che è caduto in disgrazia è stato dimesso dal servizio ma senza pubblicità senza processo servando intatto l'onore ed è sovraccarico di figliuoli ebbene tre settimane or sono il nostro Mitri Fiodorovic al caffè lo ha agguantato per la barba e lo ha trascinato così per la barba fin sulla strada e in strada di innanzi a tutti lo ha percosso e tutto questo per la ragione che costui ha avuto da me privatamente l'incarico di provvedere a un mio affaruccio menzogna da capo a fondo di fuori parvero di dentro è menzogna incollerito fremette Dimitri Fiodorovic babbo le mie azioni non le giustifico sì dinanzi a tutti lo riconosco mi sono comportato come una belva con quel capitano e ora me ne rammarico e ho schifo di me stesso per quel furore la belva ma questo vostro capitano il vostro uomo di fiducia sarà presentato appunto a quella signora che voi avete indicato col nome di incantatrice e le aveva proposto da parte vostra che essa prendesse le cambiali mie che sono in vostra mano e ne esigesse da me il pagamento in modo da cogliermi in trappola con queste cambiali se io insistessi troppo nel reclamare la mia eredità se che adesso voi mi rimproverate del tenero che io avrei per quella signora mentre siete stato appunto voi a suggerirle di abbindolarmi che volete lo dice lei chiaro e tondo è stata lei stessa a dirmelo ridendosi di voi e la ragione per cui avreste voluto cogliermi in trappola è semplicemente questa che siete geloso di me e che voi stesso vi siete messo intorno a questa donna col vostro amore e anche queste sono tutte cose che io conosco benissimo e anche di questo lei se ne rideva sentitemi bene ridendosi di voi me ne ha parlato ecco dunque santa gente chi è quest'uomo questo padre che rampogna è il figlio dissoluto signori qui presenti perdonate la mia ira ma io avevo già il presentimento che questo perfido vecchio vi avesse invitati tutti qui per fare uno scandalo io ero venuto per perdonare se gli mi avesse teso la mano per perdonare e per chiedere perdono ma già che ha offeso orora non soltanto me ma anche una fanciulla nobilissima di cui non oso neppure pronunciare il nome in vano tanto grande della mia venerazione per lei mi sono deciso a smascherare tutto il gioco di costui pubblicamente anche se si tratta di mio padre non poté proseguire gli occhi gli sfavillavano avevo il respiro affannoso ma anche tutti gli altri lì nella cella erano agitati tutti i forchello starec inquieti saranno levati in piedi i padri ieri monaci avevano preso un'espressione severa ma rimanevano tuttavia in attesa della volontà dello starec quest'ultimo sedeva là ormai palidissimo non però di inquietudine ma di una morbosa spossatezza un sorriso supplichevole si radiava dalle sue labbra e tanto in tanto sollevava la mano come se volesse arrestare gli infuriati e indubbiamente un solo gesto di lui sarebbe bastato perché la scenata fosse troncata ma pareva che lui stesso attendesse ancora qualche cosa e teneva lo sguardo ben attento come se cercasse di capire ancora qualche cosa quasi che ci fosse qualche cosa che ancora non si fosse ben chiarito alla fine Piotr Aleksandrovich Musov fu sopraffatto da un senso di avvilimento e di mortificazione dello scandalo avvenuto noi tutti siamo colpevoli esclamò con forza ma io non lo prevedevo davvero recandomi qui sebbene sapessi con chi avevo a che fare è una cosa a cui bisogna portermene immediatamente padre venerando credete pure che tutti i particolari venuti a luce qui non mi erano noti con precisione non volevo prestarvi fede ed ora per la prima volta ne vengo a conoscenza un padre che è geloso del figlio per una donna di malaffare e intanto briga con codesto arnese per cacciare il figlio in galera ed ecco che in una simile compagnia mi hanno costretto a presentarmi qui io sono stato ingannato dichiaro apertamente che sono stato ingannato né più né meno che gli altri dimitri fiodorovic pianucolò d'improvviso con una voce che non pareva la sua fiodor paulovic se voi non foste mio figlio vi garantisco che io senza perdere un attimo vi sfiderei a duello con la pistola a distanza di tre passi col fazzoletto sugli occhi col fazzoletto sugli occhi e aggiungendo quest'ultimo particolare pesta in terra con tutte e due i piedi sopravvengono ai vecchi mentitori i quali per tutta la vita hanno recitato la commedia certi momenti in cui si investono a tal segno della loro parte da fremere davvero e piangere di commozione e che perfino in quello stesso momento o almeno non più di un secondo dopo potrebbero mormorare a se stessi e pur tu menti vecchio spudorato e pur tu reciti la commedia anche adesso a unta di tutta la sacrosanta ira tua e di questo sacrosanto momento d'ira dimitri fiodorovic aggrottò torvo il viso e con inesprimibile disprezzo diede un'occhiata al padre io pensavo pensavo disse poi con una voce mite e contenuta che sarei venuto nel mio luogo natio con l'angelo della mia anima con la mia fidanzata per consolare la vecchiezza di lui e non mi vedo innanzi altro che un depravato libertino e il più spregevole dei commedianti al duello pianucolò un'altra volta il vecchiaccio che aveva il respiro grosso e ad ogni parola si spruzzava di saliva e voi piotere alexandrovic miusof sappiate egreso signore che probabilmente in tutta la vostra discendenza non c'è non c'è mai stata donna più alta e più pura sentitemi bene più pura di quella che secondo voi sarebbe un arnese come avete testei osato chiamarla e voi dimitri fiodorovic con cotesto arnese ci avete scambiato la vostra fidanzata sicché evidentemente avete giudicato che perfino la fidanzata vostra non va alla suola delle sue scarpe ecco di che specie d'arnese si tratta ma è vergognoso sfuggì a un tratto a padre iosif vergognoso e obrobrioso con la sua voce d'adolescente tremante d'agitazione tutto rosso in faccia esclamò d'improvviso kalganov che aveva sempre taciuto finora che vive a fare un uomo simile cupamente ruggì dimitri fiodorovic quasi ormai delirando dall'ira e aveva straordinariamente sollevato le spalle tanto da divenire quasi curvo no ditemi voi se è possibile permettergli ancora di disonorare con la sua presenza la terra e gli girò a tutti lo sguardo aditando il vecchio con la mano parlava lento e misurato sentite sentite monaci il parricida fiodor fiodor paulovic investì padre iosif ecco la risposta al vostro è vergognoso che cosa è vergognoso quell'arnese quella donna di malaffare è probabilmente più santa di voi altri signori iaromonici penitenti signori iaromonaci penitenti è probabilmente più santa di voi altri signori iaromonaci penitenti essa forse cadde in gioventù guastata dall'ambiente ma ha molto amato e a colei che aveva molto amato anche cristo perdonò cristo non perdonò per questa specie d'amore però ruppe con impazienza il dolce padre iosif come no per questo proprio per questo monaci per questo voi qui a forza di cavoli fate penitenza e credete ad essere giusti vi nutrite di pesciolini un pesciolino al giorno che i vostri pesciolini credete di comperare il dio è inaudito è inaudito risuonava nella cellula da ogni parte ma tutta questa scenata giunta al colmo del subbuglio e dell'indecenza cessò nel modo più inatteso improvviso si levò in piedi lo starec agli oscia benché quasi fuori di sé dal timore per lui e per tutti riuscì non di meno a sostenerlo per il braccio lo starec avanzò alla volta di Ennitri Fiotrovich e giunto agli accosto si lasciò cadere innanzi a lui in ginocchio agli oscia pensò un istante che fosse caduto per spossatezza ma non era così quando fu sui ginocchi lo starec si prostrò ai piedi di Dmitri Fiotrovich con un'armonica esatta ben consapevole di verenza e fin con la fronte aderì al suolo agli oscia era così sbicottito che non fece neppure in tempo a sostenerlo mentre si rialzava un tenue sorriso riduceva appena dalle sue labbra perdonate perdonate tutti disse egli inchinandosi in tutte le direzioni ai suoi ospiti Dmitri Fiotrovich restò qualche istante come fulgorato a lui una riferenza fino ai piedi che poteva significare alla fine bruscamente proruppe oh mio dio è chiuso il viso fra le mani si slanciò fuori della stanza dietro a lui si precipitarono in folle tutti gli altri visitatori tanto confusi da non prenderne pure concedo dal padron di casa solo i due iaromonaci si appressarono là per riavere la benedizione cos'è stata quella riferenza fino a terra è stato un qualche singolo forse provò a riattaccar discorso Fiodor Paolovic che di colpo chissà perché si era tutto ramansito senza però avere il coraggio di rivolgersi direttamente a nessuno tutti insieme in quel momento stavano uscendo dalla clausura dell'asceterio di fronte a un manicomio e di fronte a dei pazzi io non so che dire subito biliosamente ribatte Miusov ma in compenso mi disfo della vostra compagnia Fiodor Paolovic e potete credermi per sempre dov'è quel monaco di poc'anzi ma quel monaco vale a dire quello che dinanzi li aveva invitati a desinar dal legumeno non si fece aspettare appunto in quel momento mosse incontro agli ospiti mentre si stavano scendendo dalla scaletta che portava alla cella dello Starec come se fosse stato lì in attesa tutto quel tempo fatemi il fatto sta che Piotr Aleksandrovic non vuole trattenersi con me altrimenti ci sarebbe andato senz'altro e andateci pure Piotr Aleksandrovic accettatela l'ospitalità del padre Egumeno e buon appetito sappiate che sono io a declinare l'invito non siete già voi a casa a casa mangerò a casa mia che qui non mi sentirei a mio agio Piotr Aleksandrovic carissimo parente mio non vi sono parente io e non lo sono mai stato uomo abietto è apposta io l'ho detto per farvi andare in bestia perché voi rinnegate la parentela con me sebbene in verità mi siate parente avete un bel farvi grande e con l'almanacco alla mano ve lo potrei dimostrare quanto a te Ivan Fiodrovic ti manderò i cavalli a suo tempo resta anche tu se ti pare e voi poi Piotr Aleksandrovic per un dovere stesso di buona creanza bisogna che ora vi presentiate al padre Egumeno e chiediate scusa se là tutti insieme le abbiamo combinate grosse ma è proprio vero che voi andate via non dite per finta Piotr Aleksandrovic e come io sarei dopo quanto è successo ho perso le staffe signori perdonatevi ho perso le staffe e per giunta sono tutto sconvolto ma poi mi vergognerei signori c'è chi ha un cuore come quello di Alessandro il Macedone e chi come quello del cagnolino fido il mio è come quello di fido mi sento invaso dalla soggezione in che modo dopo un trascorso di questa fatta presentarsi anche a pranzo a pappare gli intingoli del convento mi vergogno è più forte di me perdonatemi sa il diavolo come la pensa chissà che non ci prenda in giro si soffermò titubante Miusov e seguiva con occhio incerto il buffone che si dilungava quest'ultimo si rigirò e avvedendosi che Piotr Aleksandrovich lo seguiva con lo sguardo gli mandò con la mano un bacio voi ci andate da legumino ansiosamente Miusov domandò allora Ivan Piotrovich e perché no tanto più che io personalmente sono stato invitato da legumino fin da ieri purtroppo io mi ritrovo effettivamente quasi nella necessità di presentarmi a questo maledetto pranzo con la solita amare esaspirazione continuò Miusov senza neppure far caso al monaco che udiva se non altro bisognerà chiedere scusa di quello che si è fatto qui e chiarire che non siamo stati noi che ne dite già bisogna chiarire che non siamo stati noi e poi il babbo non ci sarà mica rilevò Ivan Piotrovich ci mancherebbe altro che ci fosse anche il babbo pranzo maledetto ma intanto saranno avviati tutti il monacello taceva e ascoltava salda facendo mentre traversavano il boschetto egli si limitò a notare che il padre igumeno stava aspettando da un pezzo e che erano in ritardo di più di mezz'ora non gli risposero affatto Musov sbirciava con odio Ivan Piotrovich ecco qua viene a pranzo come se niente fosse stato pensava faccia di bronzo e coscienza da Karamazov un seminarista a rivista agli oscia aveva condotto il suo amato Starec fin nella cameretta da riposo e lo aveva fatto sedere sul giaciglio era quella una stanzetta assai piccola arredata del solo necessario il lettuccio era stretto di ferro e aveva sopra invece del materasso una semplice striscia di feltro nell'angolo delle icone stava un incinocchiatoio e sopra c'era una croce e il Vangelo lo Starec si lasciò cadere sul letto estenuato gli occhi gli illustravano e respirava fatica quando si fu seduto posò fisso con me pensando a qualche cosa lo sguardo su Agli oscia va caro va per me anche Porfiri basta ma tu non perder tempo tu la sei necessario va dal padre egumeno e prestati a servire a tavola vogliate permettermi di restare qui con voce supplichevole mormorò Agli oscia la tu sei più necessario non c'è pace la servirai a tavola e ti renderai utile insorgeranno i demoni tu prega e sappi figliolo mio lo Starec aveva caro di chiamarlo così che anche in avvenire non è qui il tuo posto tenilo a mente ragazzo non appena ai dio mi terrà degno di presentarmi a lui tu lascia il convento escine definitivamente Agli oscia ebbe un sussulto perché fai così non è qui ormai il tuo posto ti consacro un altissimo servizio divino nel mondo molto ti rimane ancora da peregrinare e anche ammogliarti dovrai dovrai assolutamente tutto dovrai sperimentare finché di nuovo perverrai qui arduo sarà il tuo compito ma di te non dubito e perciò ti invio nel mondo Cristo è con te bada di conservarlo ed egli ti conserverà immenso sarà il dolore che aprirà i tuoi occhi e in questo dolore tu sarai felice ecco la consegna che ti do nel dolore cerca la felicità lavora instancabilmente tieni a mente la parola che ti ho detta ora già che seppure discorrerò ancora con te non solo i giorni ma le mie ore sono contate sul viso di Agiosha sarà di nuovo dipinta un'intensa emozione gli angoli delle labbra gli fremetterò perché fai così ancora lo star recebbe un tenue sorriso lascia che con le lacrime il mondo accompagni i suoi propri morti noi qui ci rallegriamo quando un padre si diparte ci rallegriamo e preghiamo per lui lasciami dunque bisogna pregare va e affrettati sta intorno ai fratelli e non intorno a uno solo ma a tutte e due lo star levò la mano in atto di benedire opporsi non era possibile sebbene Agiosha con tutto l'essere avrebbe voluto rimanere avrebbe voluto ancora domandare e anzi la domanda stava lì lì per sfuggirgli di bocca quale significato premonitorio si racchiudesse in quell'inchino fino a terra di fronte a suo fratello Dmitri ma non osò far la domanda egli sapeva che lo star sarebbe stato il primo anche senza domande a rendergliene ragione a rendergliene ragione se fosse stato possibile ma si vede che la sua volontà era diversa e intanto quell'inchino aveva fatto ad Agiosha un'impressione profonda egli credeva ciecamente che vi si celasse un significato misterioso misterioso e chissà anche tremendo quando fu uscito dal recinto dell'asceterio affrettandosi al convento per trovarsi dal legumeno all'inizio del pranzo non peraltro in fin dei conti che per servire a tavola d'improvviso ebbe una stretta dolorosa al cuore e si fermò lì su due piedi fu come se innanzi gli risuonassero di nuovo le parole dello starec che prediceva così la propria fine una cosa che lo starec prediceva e poi con tanta sicurezza doveva avverarsi irrevocabilmente Agiosha era persuaso di questo come di una verità sacra ma come sarebbe dunque rimasto lui senza quel uomo come avrebbe fatto a non vederlo a non sentirlo più e dove se ne sarebbe andato gli ordinava di non piangere e di lasciare il convento mio dio era gran tempo che Agiosha non provava un'angoscia così grande si inoltrò a passo rapido per il bosco che separava l'asceterio del convento e incapace ormai di sopportare i propri pensieri a tal segno se ne sentiva oppresso tirò lo sguardo ai pini secolari ai due lati della viottola boscosa il tragitto non era lungo non più di 500 passi né a quest'ora vi si sarebbe potuto incontrare nessuno ma a un tratto alla prima svolta dello stradello egli ravvisò Rakitin stava là in attesa di qualcuno me forse stai aspettando domandò Agiosha raggiungendolo te per l'appunto gli dacchiò Rakitin hai fretta di andare dal padre a Igumeno lo so bene a tavola imbandita è quella volta che ricevete l'arcivescovo che il generale Pachatov ti rammenti non ha più imbandito una tavola come oggi io non ci sarò ma tu va e servi gli intingoli ma dimmi una cosa sola Alexei che significa questo sogno ecco quello che volevo chiederti di quale sogno parli ma di quell'inchino fino a terra dinanzi a tuo fratello Dmitri Fiodorovic è per giunta che busso ci ha dato con la fronte tu parli di padre Zosima sì di padre Zosima con la fronte oh già mi sono espresso poco rispettosamente ma non ha importanza ma dunque che sta a significare con questo sogno non so Miscia che cosa significhi eh lo sapevo io che lui non te l'avrebbe spiegato è difficile intendersi stringi stringi non c'è un bel nulla nulla mi pare all'infuori delle solite pie stupidaggini ma il colpo di scena è stato combinato bene ecco che adesso tutti i pinzoccheri di città e provincia cominceranno a sussurrare chissà mai chissà mai questo sogno che cosa significa a mio parere il vecchio ha effettivamente all'occhio lungo affiutato il fattaccio di cronaca ce puzza di bruciato in casa vostra quale fattaccio in Rakitin si tradì un desiderio di dire qualche cosa nella vostra famiglia si verificherà questo fattaccio accadrà fra i tuoi fratelli e il tuo babbo quattrinoso com'è e così padre Zocima ha bussato giù con la fronte per ogni buona evenienza poi qualunque cosa avvenga ma questo il santo stare ce lo aveva predetto lo aveva profetato sebbene a dirla fra noi che razza di profezia sarebbe questa a dar dei bussi con la fronte no questo si dirà è stato un simbolo un'allegoria e sa il diavolo cos'altro espanderà la fama sarà tramandato il ricordo ha previsto diranno il delitto e ha designato il reo gli stravaganti fanno sempre così all'osteria il segno della croce e in chiesa le sassate così fa il tuo starec al giusto giù bastonate e all'assassino inchini fino ai piedi quale delitto a quale assassino che cosa intendi agli occhi sarà come impietrito lì su due piedi e anche la chiti sarà fermato a quale assassino come se tu non lo sapessi farei qualunque scommessa che è una cosa a cui tu hai già pensato del resto questo è interessante senti ai osce tu dici sempre la verità men che sempre ti ponga a sedere a mezzo fra due sedie hai pensato a questa cosa o non ci hai pensato rispondi ci ho pensato pacatamente rispose agli oscia perfino la chiti si turbò che dici ma davvero ci hai già pensato anche tu proluppe io non è che ci avessi pensato mormorò allora agli oscia ma ecco appena tu hai cominciato a parlare di questo argomento in modo così strano subito mi è perso di averci già pensato anch'io lo vedi e con che chiarezza ti sei espresso in proposito lo vedi oggi guardando al babbo e a tuo fratello mi tienca hai pensato è vero al delitto allora non è che io mi sbagli ma aspetta aspetta trepidando lo interruppe agli oscia da che cosa tu arguisci tutto questo e per qual motivo innanzitutto te ne interessi tanto due domande indipendenti ma naturalissime risponderò a ciascuna separatamente da che cosa arguisco non avrei arguito un bel nulla se Dmitri Fiodorovic tuo fratello non l'avessi di colpo oggi capito da cima a fondo in un lampo solo tale qual è mi è bastato un sol tratto per afferrarlo tutto quanto in una volta e gli individui come lui fior di galantuomini ma lussuriosi c'è un limite che guai se soltrepassa altrimenti altrimenti arriverà al punto da coltellare perfino suo padre ma il papà è un beone è un dissoluto senza freno che non ha mai e nessuna cosa conosciuto la misura non si freneranno né l'uno né l'altro e patapunfete tutte e due dentro al fosso no miscia no se non si tratta che di questo tu mi hai rincorato a questo punto non si arriverà ma tu perché tremi tutto sei pratico di come vanno queste cose ammettiamo pure che sia un onestuomo il tuo mitienka è uno sciocco ma è onesto ma sta il fatto che gli è un sensuale ecco qual è il suo destino e tutta la sua costituzione più intima è stato il padre che gli ha trasmesso la sua bassa libidine vedi io mi stupisco di te agli oscia come fai a mantenerti vergine eppure anche tu sei un karamazov e nella famiglia vostra la sensualità giunge al parossismo ma ecco che questi tre sensuali si rincorrono adesso uno dietro l'altro coltelli alle calcagne si sono trovati in tre a cozzare insieme la fronte e tu se non ti dispiace sarai il quarto sul conto di quella donna tu sei in errore Dimitri la disprezza con una specie di fremito disse a gli oscia rushenka vuoi dire no fratello mio non la disprezza se anche apertamente non tradisse per lei la sua fidanzata non significa che la disprezzi qui fratello mio qui si tratta di qualche cosa che tu ora non potresti intendere si tratta che quando un uomo si è innamorato di una certa bellezza di un certo corpo di donna e perfino di una certa parte di un corpo di donna è una cosa questa che un sensuale può capire allora si disferebbe per essa dei suoi propri figli venderebbe per ottenerla suo padre e sua madre la russia e ogni patria forse anche onesto andrà e ruberà fosse l'uomo più mite scozzerà qualcuno il più fidato diventerà un traditore il cantore dei bei piedini femminili Pushkin cantò i bei piedini in versi gli altri non li cantano ma non possono guardare quei bei piedini senza spasimare ma poi ci fossero soltanto i piedini qui fratello il disprezzo aiuta ben poco anche se fosse vero che egli disprezzi Grushenka la disprezza benissimo ma non può strapparsene sì riesco a comprenderlo giuscamente buttò là agli oscia su serio e dunque sono cose che capisci a fondo se fin dalla prima parola te ne esci così che comprendi ma legnamente esclamò la Kitty te ne sei uscito così senza pensarci eh ti è scappato detto dal cuore confessione tanto più preziosa vuol dire che per te si tratta ad un tema già noto che tu ci hai già pensato sopra alle faccende della sensualità e pensare che tu sei vergine tu sei il piccolo aiosha quacheta sei un santo non dico di no ma sei una quacheta e sai il diavolo a che punto sarai arrivato quel pensiero sai il diavolo tutte le cose che già ti son note vergine sì ma chissà che abisso hai già scandagliato è un pezzo che ti osservo sei anche tu un Karamazov sei un Karamazov in pieno e via significa pure qualcosa la razza e la selezione da parte di padre sensuale da parte di madre puro folle che hai da tremare forse dico giusto sai a proposito chi mi ha detto Grushenka portalo qua da me di te mi parlava che ci penso io a fargli buttare la tonaca ne avessi visto con che insistenza mi pregava portamelo qua portamelo qua tanto che fra me ho pensato o che ci sarà mai da renderla così curiosa di te sai che anche lei è una donna così diversa dal comune salutamela tanto e dille che non ci vengo un po' di traverso sorrisse agli osce ma termina di dirmi Michael quel che avevi cominciato poi ti dirò il mio pensiero c'è poco da terminare è tanto chiara è una musica vecchia fratello mio è vero che perfino in te si nasconde un sensuale che dire di tuo fratello Ivan che te fratello Uterino cosa vuoi è anche lui un Karamazov e qui sta tutto il noto di voi Karamazov sensuali avidi di denaro e stravaganti tuo fratello Ivan adesso si diverte a stampare per chissà quale stupidissimo calcolo articoletti di teologia lui che è un ateo è questa bassezza se la riconosce da sé Ivan con te sto fratello tuo non basta il suo fratello Mitia cerca di togliere la fidanzata e a quanto pare otterrà il suo scopo e il più bello è in che modo col consenso dello stesso Mitienka perché Mitienka è il primo a cedergli la sua fidanzata pur di liberarsi di lei e darsi tutto senz'altro a Grushenka e questo a dispetto di tutto l'orgoglio e il disinteresse di cui si vanta notalo bene ecco quali sono appunto i tipi più fatali giusto il diavolo potrebbe capirci qualche cosa in voi altri dopo un simile modo d'agire riconosce lui stesso la propria bassezza e va di sua volontà a voltarcisi dentro e poi ascolta ancora Mitienka adesso viene a tagliargli la strada il vecchiaccio vostro padre gli è che per Grushenka costui tutta un tratto ha perso il cervello gli è che soltanto a guardarla gli vengono le bollicine di saliva vedi che è stato tutto per lei se nella cella poco fa ha fatto scoppiare quel popò di scandalo tutto perché Mewsoff aveva osato chiamarla una donna di malaffare se ne è innamorato peggio di un gatto prima lei non faceva altro che prestargli dei servizi a pagamento a proposito di non succhia farucci tenebrosi per i suoi cabaret ma ora tutto a un tratto lui si è accorto di lei ha aperto gli occhi e ha drizzato la cresta e le si strofina addosso con delle proposte che oneste non sono di certo e così finirà che cozzeranno l'uno contro l'altro babbo e figliuolo avanzando per quella stradella e intanto Grushenka non si cura né dell'uno né dell'altro mentre pure continua a attaccheggiare e a prendersi gioco di entrambi e sta ad osservare qual è quello che le convenga di più c'è chi ha il paparino sì ci sono parecchi quattrini da grattargli ma c'è il guaio che lui non ti sposa e magari alla fine si mette a fare l'ebreo e chiude il borsello da questo punto di vista anche Mitienka ha il suo pregio quattrini non ne ha ma in compenso è capace di sposare sì signori è capace di sposare piantare la fidanzata una bellezza incomparabile come Caterina Ivanovna ricca nobile figlia di un alto ufficiale per sposare Grushenka ex mantenuta da un vecchio piccolo commerciante di Samsonov contadinaccio dissoluto nonché sindaco della città da tutto questo può nascere effettivamente un cozzo mortale e da questo che aspetta tuo fratello Ivan è questa la carta su cui punta tutto si guadagnerebbe Caterina Ivanovna per la quale va in consunzione e in sovrappiù arrafferebbe i suoi 60.000 rubli di dote e per un uomo di posizione modesta e squattrinato come lui questo sarebbe un bellissimo colpo per cominciare e poi ti enti bene a mente quest'altra cosa non soltanto Mitia non ne resterà offeso ma anzi gliene sarà obbligato fino alla morte io non è vero so di sicuro che Mitianca in persona la settimana scorsa ha gridato in pubblico caffè ubriaco fra le zigane che lui non era degno della sua fidanzata Catenca mentre il fratello Ivan è quello sì che ne era degno e anche lei Caterina Ivanovna quando fosse alle strette un adoratore come Ivan Fiodorovich non lo respingerebbe mica ma se già fin d'ora fra l'uno e l'altro tentenna c'è una cosa però che io vorrei sapere come ha fatto contesto Ivan a incantarvi tutti che voi gli state d'innanzi tutti quanti in adorazione e intanto lui se ne ride di voi altri ecco qua pensa io me ne sto fuori del gioco e a vostre spese mi do scianto in che modo tu sai tutto questo che cosa ti fa parlare con tanta sicurezza bruscamente col viso grottato domandò a questo punto agli oscia e a te che cosa ti fa domandare così e già ti mette in timore della mia risposta dunque consente anche tu che ho detto il vero tu per Ivan non hai simpatia Ivan non sente la seduzione del denaro davvero ma le bellezze di Caterina Ivanovna non le metti in conto qui non si tratta di denaro soltanto sebbene anche sessanta carte da mille siano una cosa attraente Ivan mira più in alto Ivan non si lascia attrarre dalle carte da mille non è il denaro che cerca Ivan non è il benessere il dolore forse è quello che cerca con che specie di sogno mi rivieni fuori è proprio vero che voi siete dei nobili uomini oh se sapessi Miscia è un'arma tempestosa il suo intelletto è in catene in lui c'è un alto pensiero che non trova soluzione egli è di quelli cui non occorrono i milioni ma occorre trovare una soluzione al proprio pensiero plaggio letterario povero aglioscia mio tu vieni ripetendo le frasi del tuo starec è proprio vero che Ivan va posto dinnanzi un bel indovinello con evidente biliosità esclamò Rakitin perfino in faccia era mutato e le labbra gli s'erano contratte ma l'indovinello è ben sciocco e non c'è niente da indovinare basta appena mettere in moto il cervello e già hai afferrato tutto è un articolo il suo grottesco insulso e hai sentito orora la sua stupida teoria se non c'è l'immortalità dell'anima allora non c'è neppure virtù e dunque tutto è permesso e tuo fratello Mitia a proposito ricordi come ha esclamato me lo terrò a mente teoria seducente per i furfanti ma io ricorro alle ingiurie sciocco che sono non già per i furfanti ma per gli studenti fanfaroni con tanto di insoluta profondità di pensiero rodomonti da quattro soldi che stringi stringi il sugo è tutto qui da una parte non posso non convenire e dall'altra non posso non consentire tutta la sua teoria è un pattume bello e buono l'umanità saprà trovare in se stessa la forza di vivere per la virtù anche senza credere all'immortalità dell'anima la troverà nell'amore della libertà della uguaglianza e della fratellanza Rakitin si era accalorato quasi non sapeva più frenarsi ma di colpo come se qualche cosa gli sovvenisse si fermò ma via basta ebbe un sorriso ancora più obbligo di poc'anzi cos'hai da ridere meglio di che uno spacciatore di frasi fatte no io non mi sono neppure sognato di giudicarti uno spacciatore di frasi fatte tu hai dell'ingegno ma lasciami stare ho sorriso così senza ragione io capisco benissimo che ti possa accalorarti miscia dal tuo trasporto ho indovinato che tu per primo non sei indifferente alle grazie di Caterina Ivanovna è una cosa fratello che sospettavo da un pezzo ed è per questo che non ti piace mio fratello Ivan tu sei geloso di lui e anche per i quattrinelli di lei ne sono geloso perché non ce lo aggiungi di no dei quattrini io non ci aggiungo nulla non voglio mica offenderti ci credo se che tu l'hai detto mandate al diavolo una buona volta tu e tuo fratello Ivan non la volete capire voi altri che anche a prescindere da Caterina Ivanovna quello è un tipo che può piacere molto poco e che cosa mai dovrebbe farmelo piacere che il diavolo vi prenda come sai egli si degna di rivolgermi personalmente ai suoi insulti e dunque io non avrei il diritto di insultare lui io non gli ho mai sentito dire nulla di te né in bene né in male di te non parla affatto e io invece ho sentito che l'altro ieri in casa di Caterina Ivanovna ne ha dette sul mio conto di tutti i colori lo vede se si interessa al vostro servitore umilissimo e chi dei due fratello sia quello che è più geloso dell'altro non so proprio che dirne dopo un simile esempio ha avuto la gentilezza di asserire che se io non piegherò in un futuro assai prossimo alla carriera dell'archimandrita e non mi risolverò a subir la tonsura allora infallibilmente partirò per Pietroburgo e mi intrufolerò in qualche grosso giornale dedicandomi senza meno al reparto critica seguiterò a scrivere per una diecina d'anni e alla fine diverò padrone del giornale quindi ne riprenderò sotto altra veste la pubblicazione dandogli senza meno un indirizzo liberale e ateo con una sfumatura socialisteggiante e magari anche con un piccolo lustro di socialismo ma sempre con l'orecchio ben dritto ossia in realtà tenendo il piede in due staffe e gettando il fumo negli occhi ai sempliciotti la fine della mia carriera secondo le previsioni di tuo fratello sarebbe questa che quella tal sfumatura di socialismo non mi impedirebbe affatto di deporre in banca il denaro degli abbonamenti e di investirlo eventualmente in speculazioni manovrate da qualche ebreolo finché non venisse il momento di costruirmi un palazzone lì a Pietroburgo in modo da trasferirvi dentro anche gli uffici di redazione e nel rimanente dei piani allogarci gli inquilini perfino il luogo dove sorgerà ha precisato nei pressi del nuovo ponte di pietra sulla neva che si sta progettando dicono a Pietroburgo dalla Viteinaia alla Viborskaya ah Mischa com'è vero tutto questo e com'è s'avvererà fino all'ultima sillaba esclamò di colpa Joscha incapace di frenarsi ridendo allegramente anche voi vi compiacete di sarcasmi Alexei Fedorovic no no io scherzo scusatemi ho tutt'altro per la testa ma permette una domanda chi ti ha potuto riportare tutti questi particolari e da chi hai potuto esserne informato non può essere davvero che tu ti trovassi in persona da Katerina Ivanovna mentre quello parlava di te io non mi ci trovavo ma c'era Dmitri Fiodorovic e io ho sentito ogni cosa con le mie orecchie da Dmitri Fiodorovic cioè se lo vuoi sapere lui a me non l'ha detto ma io ho origliato mentre parlava involontariamente intendiamoci infatti mi trovavo da Grushin in camera di lei e non potevo uscirne finché Dmitri Karamazov si tratteneva nella stanza accanto ah già non ci pensavo più essa te parente non è vero? parente? Grushin che vuoi dire? parente a me? esclamò di scatto Rakitin arrossendo tutto ma tu sei ammattito di un po' il cervello non ti sta a posto come? allora non te parente? io lo avevo sentito dire e da chi l'hai potuto sentire? ma che? il fatto è che voi altri signori Karamazov affettate di essere chissà che illustri e antichi patrizi mentre in realtà vostro padre abbazzicato da buon istrione tutte le tavole altrui e per carità era messo in cucina ve lo concedo io non sono altro che un figlio di Pope e appetto a voi nobiluomini sono un pidocchio ma ciò non significa che dobbiate offendermi in modo così allegro e spuderato io pure al mio onore Alexei Fyodorovic con Grushenka io non posso essere parente con una donna di strada vogliate riflettere Rakitic era profondamente esasperato perdonami per l'amor di Dio io non potevo mai immaginare e poi come dici che è una donna di strada ma davvero è come dici e di colpa gli oscia Rossi ti ripeto io avevo sentito dire che t'era parente tu spesso ti recchi da lei e sei stato il primo a dirmi che non c'era fra te e lei nessun legame amoroso e così io non avrei mai pensato che proprio tu la disprezzassi a questo punto ma lei se lo merita veramente se io vado a casa sua posso averne le mie buone ragioni e questo ti deve bastare quanto poi alla parentela aspetta ancora un po' di tempo e il tuo fratellino o addirittura il bambino in persona la faranno parente a te non a me ma eccoci arrivati passa in cucina piuttosto oh ma che c'è di nuovo che c'è abbiamo fatto tanto tardi ma non può essere che loro abbiano terminato così presto di mangiare o che ancora una volta i caramanzof ne abbiano combinata qualcuna vedrai che è così ecco il tuo babbo Ivan Fiodrovich che gli viene dietro ma loro sono scappati via dal legumeno guarda padre Isidore sulla scaletta che gli grida presso qualche cosa e anche il babbo tuo grida e agita le mani risponde per le rime a quanto pare ma ed eccola anche Miusov che in carrozza se ne parte guarda sa lontana ed ecco Maximov il possidente che anche lui scappa via ma qui è successo uno scandalo apposta il pranzo non ci deve essere stato non avranno mica preso a botte legumeno o saranno loro verbi grazia che ce le avranno prese questa sì che sarebbe stata bella Rachiti in coi suoi tumultuosi commenti non andava lontano dal vero lo scandalo era scoppiato effettivamente inaudito e inatteso tutto sarà svolto secondo un'ispirazione improvvisa lo scandalo quando Miusov e Ivan Fiodorovich erano stati sul punto di entrare dall'egumeno nell'animo di Piotr Aleksandrovich c'era un uomo veramente fine e delicato si era rapidamente sviluppato un delicatissimo processo sentimentale lo aveva sopraffatto un pudore d'essere andato in collera ebbe un senso netto che lo sconcio Fiodor Fiodor Paolovich avrebbe dovuto in realtà essere per lui così trascurabile che non sarebbe stato il caso di perderne la calma là nella cella dello Starec e così perdersi lui stesso come era avvenuto perlomeno i monaci non hanno in questo la minima colpa concluse a un tratto con se stesso sul pianerottolo d'entrata e se anche qui si è della gente per bene questo padre Nicolai Ligumeno eppure a quanto sembra di nobile famiglia per qual motivo non essere con loro affabile aggraziato e cortese mi guarderò dal contraddire anzi farò sempre ecco a loro mi renderò simpatico con la buona grazia e alla fin fine dimostrerò loro che non sono uno della compagnia di questo esopo di questo buffone di questo Pierrot e son caduto in trappola anch'io né più né meno che tutti quanti loro quanto poi a quei contesi tagli di bosco e a quelle tali pescaie nel fiume che non sapeva neppure dove si fossero risolse di cederli a loro definitivamente una volta per sempre oggi stesso tanto più che era tutta roba che valeva ben poco finendola così con tutte le azioni legali intentate al monastero tutte queste ottime intenzioni si fortificarono più che mai all'entrare nella sala da pranzo del padre egumeno sala da pranzo veramente costui non ne aveva sa che in realtà c'erano due camere sole in tutto il suo appartamento seppure molto più ampie e comode che quelle dello starec ma l'arredamento delle stanze non brillava per un comfort particolare la mobilia era di mogano e cuoio nel vecchio stile dell'820 e i pianciti erano addirittura di mattoni grezzi in compenso però tutto splendeva di pulizia e sulle finestre c'erano molti fiori di pregio ma il maggior lusso in questo momento era dato come naturale dalla tavola lussuosamente apparecchiata anche questo si intende relativamente parlando la tovaglia era di bucato il vasellame scintillava c'era totta magnificamente pane di tre qualità due bottiglie di vino due bocce di splendido miele del convento e una grande caraffa di vetro con lo quas pure del convento rinomato in tutto il circondario acquavite non ce n'era punto la chitin divulgò in seguito che per il pranzo d'oggi erano state preparate cinque portate zuppa di storioncini con timballi di pesce quindi pesce freddo sotto salsa ammannito in modo speciale e superiore quindi cotolette di storione gelato e compote e alla fine pappina dolce a guisa di blanche manger tutto questo ben di dio non era sfuggito al fiuto di rachitin che non aveva saputo reggere ed era andato apposta a sbirciare nella cucina dell'igumeno dove vantava pure le sue brave relazioni dappertutto egli aveva relazioni e dappertutto ficcava la lingua era un cuore il suo pieno di requietezza ed invidia delle notevoli sue qualità egli era pienamente consapevole ma nervosamente le esagerava in una stima presuntuosa di se stesso aveva la certezza che sarebbe divenuto nel suo genere un uomo d'azione ma agli oscia che gli era molto legato soffriva a vedere come il suo amico rachitin fosse disonesto e di questo non fosse consapevole anzi per fatto che era sicuro di non rubare i denari da un tavolo si riteneva senz'altro un uomo della più specchiata onestà e qui non soltanto agli oscia ma nessun altro avrebbe potuto farci nulla rachitin come persona di poco conto non era stato invitato al pranzo erano stati invitati invece padre iosif e padre paesì e con loro anche un altro iero monaco costoro stavano già in attesa nella stanza da pranzo dell'igumeno quando erano entrati piotr alexandrovich kalganov e ivan fiodorovic c'era lì in un cantuccio in attesa anche il possidente maximov il padre igumeno per accogliere gli ospiti si fece innanzi fino nel mezzo della stanza era un alto scarno ma ancora robusto vecchio nero di capelli ma assai brizzolato con un lungo e grave viso prosciugato dalle astinenze egli si inchinò agli ospiti in silenzio ma quelli a differenza dello starec gli si appressarono per averne la benedizione miusof fece atto addirittura di baciargli la mano ma l'igumeno la ritirò in tempo e il bacio non ebbe luogo invece ivan fiodorovic e kalganov ebbero stavolta la benedizione con tutte le regole ossia quel più semplice e popolaresco sbacciucchiamento della mano noi dobbiamo chiedere le più vive scuse padre reverendissimo cominciò piotr aleksandrovic con un sorriso pieno d'amabilità ma con un tono grave e deferente se ci presentiamo qui soli senza l'altro che voi avevate invitato e che sarà accompagnato a noi fiodor paulovic egli si è trovato costretto a restare lontano dalla vostra mensa e non senza ragione nella cella del venerando padre zosima lasciandosi trascinare dal suo sciagurato dissidio familiare col figlio è avvenuto di pronunciare alcune parole del tutto fuori luogo insomma assolutamente sconvenienti come probabilmente e allungò un'occhiata agli iero monaci vostra reverenza è già venuto a sapere e così riconoscendo da sé la propria mancanza e pentendosene sinceramente è stato preso dalla vergogna e incapace di sormontarla ha pregato noi me e il suo figliuolo Ivan Fiodorovic di significarvi tutto il suo sincero rammarico la sua contrizione e il suo rimorso in una parola egli spera e desidera disobbligarsi col tempo e intanto implorando la vostra benedizione vi supplica di dimenticare l'accaduto Mjusov Takwe pronunciate le ultime parole della sua tirata si ritrovò completamente soddisfatto di se stesso al punto che neppure una traccia dell'irritazione di poc'anzi gli rimaneva nell'anima amava di nuovo pienamente e schiettamente l'umanità l'igumeno che lo aveva ascoltato con aria grave chinò gli aveva in mente il capo e disse di rimando mi rammarico vivamente dell'accaduto forse alla nostra mensa egli ci avrebbe amati allo stesso modo che noi avremmo amato lui vi preghiamo signori di favorire si soffermò ritto innanzi a un icone e cominciò a pregare ad alta voce tutti con deferenza aveva inchinato le teste e il possidente Maximoff si era addirittura messo in mostra innanzi a tutti con le palme delle mani giunte insieme in un'unzione particolare ed ecco a questo punto Fyodor Paulovic giocare il suo ultimo tiro ha notato che effettivamente egli aveva avuto l'intenzione di andarsene e che effettivamente aveva sentito come fosse impossibile dopo essersi comportato in modo così indecente nella cella dello Starec presentarsi come niente fosse da legumeno a pranzo non già che egli si vergognasse poi tanto di se stesso e si sentisse tanto nel torto forse anzi era tutto l'opposto ma tuttavia aveva la sensazione che prender parte al pranzo fosse insomma sconveniente ma non appena all'uscita dalla foresteria ebbero chiamato la sua traballante carrozza e lui stava già montandoci sopra di colpo si arrestò e erano sovvenute le parole che lui stesso aveva dette allo Starec a me sembra sempre quando entro in qualche posto di essere il più miserabile di tutti e che tutti mi prendano per un buffone così che io dagli a fare il buffone per davvero già voi altri siete tutti fino all'ultimo più stupidi e più miserabili di me e gli era in sorta una voce di vendicarsi su tutti delle proprie abiettezze improvviso gli era sovvenuto inoltre ed una volta che gli aveva domandato in tempi passati perché il tal dei tali voi l'odiate tanto e lui aveva risposto allora in un accesso della sua buffonesca spudolatezza ecco perché egli è vero non mi ha fatto niente ma in compenso gli ho fatto io la più brutta azione possibile e appena fatta subito perciò stesso l'ho pigliato in odio ora tornandogli alla mente questo un sorriso contenuto e pieno di fiele lo sorprese nella momentanea irrisolutezza gli occhi gli sfavillarono ed ebbe perfino un fraimito alle labbra una volta che ho cominciato tanto vale finire decise a un tratto il suo sentimento più intimo in quell'istante si sarebbe potuto esprimere prestapoco così già ormai non puoi riabilitarti dunque giù fammi toccare il fondo della svergognatezza tanto per farvi vedere che non ho vergogna di voi non peraltro a cucchiere ordinò che aspettasse e lui a rapidi passi ritornò in convento e dritto da ligumeno ancora non sapeva bene che cosa avrebbe fatto ma sapeva che ormai non era più padrone di sé e al minimo urto in un lampo sarebbe giunto a chissà quale estremo di turpitudine ma di turpitudine soltanto e non mai a qualche delitto o in una scappata tale da poter incorrere nelle rappresaglie della legge di fronte a un'evenenza simile egli era sempre capace di frenarsi e anzi questa sua capacità stupiva egli stesso in certi frangenti fece la sua comparsa nella stanza da pranzo dell'igumeno proprio in quell'istante in cui la preghiera era terminata e tutti si appressavano alla tavola fermatosi sulla soglia abbracciò con lo sguardo la compagnia e si mise a ridere d'un lungo sfrontato perfido risolino fissando tutti arditamente negli occhi loro credevano che me ne fosse andato ed io invece son qui rimbombò la sua voce in tutta la sala in un attimo tutti rimasero fissi a lui in silenzio ed improvviso ebbero tutti la sensazione che stava per accadere qualche cosa di rivoltante di strampalato di scandaloso piotro alexandrovich da quell'eccellente disposizione di spirito in cui si trovava piombò immediatamente nella più feroce tutto quanto gli sarà affiocchito nel cuore e chetato il soprassalto si ridestò e si sollevò no questa è una cosa che non posso sopportare gridò egli assolutamente non posso e non posso a nessun costo il sangue gli era montato in viso si era perfino inceppato nel parlare ma non era momento da pensare al bello stile e diede di piglio al cappello che cos'è che cos'è che non può esclamò Fiodor Paolovic non può in nessun modo e non può a nessun costo reverendo padre devo entrare o no mi accettate per commensale vi preghiamo di accomodarvi di tutto cuore rispose il legumeno signori permettetemi soggiunse un tratto che io vi preghi dal profondo dell'anima di lasciare in disparte i vostri eventuali attriti e di riunirvi insieme in amore e in familiare concordia alzando la mente al Signore all'umile mensa nostra no no non è possibile gridò come fuori di sé Piotr Aleksandrovich vuol dire che se per Piotr Aleksandrovich non è possibile allora anche per me non è possibile e non mi tratterrò con queste intenzioni io sono venuto dunque d'ora in avanti starò con Piotr Aleksandrovich se voi ve ne andate Piotr Aleksandrovich anch'io verrò via se rimarrete anch'io rimarrò con quella vostra familiare concordia voi lo avete punzecchiato più che mai padre Igumeno non mi riconosce lui per parente dico bene Fonzon ecco qua anche Fonzon salve Fonzon voi dite a me borbotò sconcertato il possidente Maximoff si intende a te esclamò Fjodor Paolovic e a chi se no non sarà davvero il padre Igumeno Fonzon ma non sono neppur io Fonzon sono Maximoff tu non sei Fonzon reverendo padre voi sapete chi è questo Fonzon ci fu un processo alle assise lo avevano ucciso in un lupanare così se non sbaglio chiamate voi quei luoghi ucciso e depredato e nonostante la sua rispettabile età lo avevano pigiato in una cassetta ce lo avevano sigillato e da Pietroburgo a Mosca lo avevano spedito in un carro bagagli con tanto di cartellino e mentre lo avevano pigiato lì dentro le prostitute danzando cantavano in coro e si accompagnavano sulle arpe voglio dire sul pianoforte e ora eccolo qua quel Fonzon in carne e ossa è risuscitato dai morti non è vero Fonzon ma che maniere sono queste che cosa si deve vedere che suonarono voci dal gruppo degli ieromonaci andiamo lo ruppe Piotr Aleksandrovich rivolgendosi a Kalganov no signori permettete un momento stridendolo interruppe Fiodor Paolovic e avanzò un altro passo nella stanza permettete anche a me di terminare la nella cella mi hanno appiccicato addosso che io avrei avuto un contegno irriguardoso e il motivo sarebbe che mi è scappato detto di quei pesciolini Piotr Aleksandrovich Musov il parente mio preferisce che in quel che si dice ci sia plus de nobles che de sincerité ma invece io preferisco che in quel che dico ci sia plus de sincerité che de noblesse e alla malora ogni noblesse parlo bene Fonzon permettete padre Igumeno nonostante che io mi sia un buffone e reciti la parte del buffone ma per l'onere sono un cavaliere e voglio esprimere quello che ho dentro sì io sono un cavaliere dell'onore mentre in Piotr Aleksandrovich c'è un concentrato di superbia e niente di più e forse io sono venuto qui poco fa appunto per osservare per esprimere quel che ho in cuore io ho qui mio figlio Alexei che attende la sua salvezza io sono il padre e come tale mi preoccupo del suo destino e devo preoccuparmene mentre facevo la commedia di sottecchi non ho smesso un istante di ascoltare e di osservare e così adesso voglio recitarvi l'ultimo atto della rappresentazione sapete da noi in Russia come va? da noi va che chi cade quello non salza più da noi una volta che sei caduto ebbene statene pure lì in terra per tutta l'eternità non così dovrebbe essere io voglio rialzarmi padri santi voi mi turbate la confessione è un sacramento sublime per il quale provo anch'io la più profonda venerazione e sono pronto a prostrarmi ci bocconi ed ecco che tutto a un tratto là nella cella tutti quanti in ginocchio e si mettono a confessarsi ad alta voce o che forse ad alta voce è legito confessarsi dai santi padri fu istituita la confessione auricolare solo allora la vostra confessione sarà un sacramento queste sono cose stabilite av antiquo altrimenti quando io gli dichiaro dinnanzi a tutti che per esempio ho fatto questo e quello insomma questa cosetta e quest'altra mi spiego può darsi che pure a dirlo sia poco bello e allora naturalmente sia tanto di scandalo no padri a badare voi altri scusate si diventerebbe eretici io alla prima occasione scrivo al sinodo e mio figlio Alexei me lo riporto a casa a questo punto si noti bene Sodor Paolovic aveva ancora nell'orecchio il suono di certe campane c'erano state un tempo delle insinuazioni maligne pervenute fino all'arcivescovo e non solo a proposito del monastero nostro ma anche di altri dove era in vigore lo stalacesuo secondo le quali gli starci sarebbero stati tenuti in troppo onore a danno perfino dell'autorità degli igumeni e avrebbero fra l'altro abusato del sacramento della confessione eccetera eccetera accuse infondate che erano infatti cadute di per sé così da noi come da per tutto ma lo sciocco demonio che aveva afferrato Fyodor Paolovic e lo trascinava per mezzo dei suoi stessi nervi sempre più a fondo in un abisso ignominoso gli aveva suggerito quella vecchia calunnia di cui Fyodor Paolovic per conto suo non intendeva un'ette e non aveva saputo neppure lanciarla a proposito già che stavolta nella cellula dello Stares nessuno sarà messo in ginocchio o sarà confessato ad alta voce in modo che lui non aveva potuto veder nulla di simile con gli occhi suoi e parlava soltanto secondo vecchie voci e pettegolezzi di cui alla meglio sarà ricordato ma pronunciata che ebbe la sua stupidaggine si accorse di aver snocciolato un'insulsa Fandonia e tutta un tratto sentì il bisogno di dimostrar senza indugio ai suoi uditori e soprattutto a se stesso che aveva detto tutt'altro che una Fandonia e sebbene fosse perfettamente consapevole che qualsiasi parola avesse aggiunto ancora avrebbe accumulato sempre più insulsamente altre Fandonie su quella già detta non si era ormai potuto più trattenere e sarà avventato giù a rotta di collo ah che bassezza proruppe Piotr Aleksandrovich perdonate disse d'improvviso Ligumeno è stato detto in antico e cominciarono a proferire avverso me una moltitudine di parole e pervennero infino a farmi il vituperio ma io come ebbi udito tutto dissi con meco cotesta e medicina di Gesù ed egli mi ha inviata per risanare la valla gloriosa anima mia e perciò anche noi vi ringraziamo umilmente ospite molto pregiato e tributò a Fiodor Paulovic una riverenza a cintola ta 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 bacchettonerie e vecchie frasi vecchie frasi e vecchi gesti vecchia ipocrisia e filisteume di riverenze fino ai piedi riconosciamo bene cotesti salamelecchi il bacio sulle labbra e il pugnale in cuore come nei masnadieri di Schiller non mi piacciono o padri le finterie è la verità che io voglio ma non nei pesciolini è la verità e già io l'ho gridato alto padri monaci perché digiunate perché me ne aspettate in ricompensa un premio in cielo allora per un premio così anch'io mi metterei a digiunare no monaco santo tu cerca di essere virtuoso in questa vita renditi utile alla società senza richiuderti in un convento a mangiare a scrocco e senza aspettare ricompensa lassù in cielo è così che si sarà più meritori vedete che anch'io padre Igumeno so parlare da uomo assennato che cosa c'è ammannito qui e si apressò la tavola vino di porto stravecchio del factory medoc imbottigliato dei fratelli Elisiev oh bravi i miei padri qua è affare d'altro eh che di pesciolini guarda che bottigliuccia i padri han cavato fuori e tutta questa roba chi l'ha fatta venire fin qua è stato il contadino russo il lavoratore che con le mani callose porta qua il suo sudato centesimo strappandolo alla famiglia e ai bisogni dello stato non c'è che dire voi padri santi succhiate il sangue del popolo questo poi è veramente indegno da parte vostra scattò padre Iosif padre Pasi cupo taceva Miusof si slunciò in fretta fuori della stanza e Calganoff dietro a lui or bene padri seguo anch'io Piotr Aleksandrovich d'ora innanzi da voi non ci verrò più potete pregarmi in ginocchio che non verrò più un migliaretto di rubli ve l'ho mandato una volta e apposta voi avete di nuovo agguzzato gli occhi no non ci aggiungerò più un soldo vi vendicherò della mia passata gioventù di tutte le mortificazioni che ho patito ed egli picchiò col pugno sopra la tavola in un trasporto di artificiosa emozione quante cose ha rappresentato questo monastero nella mia vita quante lacrime amare ho versato per sua cagione voi avete istigato mia moglie la clicuscia contro di me voi in sette concili mi avete gettato addosso l'anatema e per tutti i dintorni mi avete diffamato basta padri questo è il secolo del liberalismo dei battelli a vapore e delle strade ferrate né mille né cento rubli né cento centesimi niente più piglierete da me di nuovo qui sei noti bene mai nulla di tanto significativo il nostro convento aveva rappresentato nella vita di lui e nessuna specie di lacrime amare egli aveva versato a cagione di esso ma a tal segno sarà lasciato trasportare dalle artefatte sue lacrime che per un istante poco mancò non credesse a se stesso fu addirittura sul punto di scoppiare a piangere dall'intenerimento se non che in quell'istante stesso sentì che era tempo di far dietro front l'igumeno alla velenosa calunnia di lui aveva chinato il capo ed il nuovo solennemente si fece a dire è stato detto ancora sopporta con allegrezza l'infamia che ti viene gettata addosso senza tua colpa e non aver turbamento e guardati dall'odiare colui che getta l'infamia su di te conformemente a questo noi ci comportiamo taratatata che bella filastrocca e che pappolate dal principio alla fine continuate pure la vostra filastrocca padri già io me ne vado e mio figlio Alexei in forza della mia patria potestà lo porto via di qui per sempre Ivan Fiodorovich voi che siete il più rispettabile dai miei figli lasciate che vi ordini di seguirli Fonzon e tu che ragione avresti di rimanere qui dentro su vientene da me in città a casa mia si sta allegri in tutto ci sarà un miglio di strada al posto del magro farò mettere in tavola un porcellino da latte con contorno di cascia si pranzerà insieme ti passerò il cognacchino poi un po' di liquoretto dolce ne ho di bacche di pruno ehi Fonzon non lasciarti scappare la buona ventura uscì dalla stanza gridando e gesticolando e fu appunto in quel momento che Rakitin lo vide così in atto di uscire e lo indicò ad Agiosha Alexei da lontano gridò a quest'ultimo il padre appena lo scorse oggi stesso ti trasferirai a casa mia definitivamente e ti porterai dietro guanciale e materasso e che di te qui dentro non resti neppure l'odore Agiosha si era affermato come fulminato e in silenzio restava intento alla scena Fiodor Paolovic frattanto era salito in carrozza e dietro di lui senza neppur girarsi a salutare Agiosha Ivan Fiodorovic muto e torvo faceva già per salire ma a questo punto una scena grottesca e quasi incredibile si svolse a corona dell'episodio di improvviso al predellino della carrozza comparve il possidente Maximov era venuto fin lì di corsa tutto affannato pur di arrivare in tempo Rakitin e Agiosha infatti lo avevano visto correre aveva in corpo tanta fretta che dall'impazienza aveva già posto piede sul predellino sul quale ancora Ivan Fiodorovic poggiava col piede sinistro e aggrappandosi alla serpe tentava di saltar su in carrozza anch'io vengo con voi gracchiava insistendo nei suoi saltellamenti e rideva ad un risolino minuto e festoso beato in faccia e disposto a tutto prendete su anche me vedete non lo dicevo io trionfalmente esclamò Fiodor Paolovic che questo era Fonzon che era l'autentico Fonzon risuscitato dai morti ma come hai fatto a svegnartela di lì che fonzoneria hai mai combinato e come hai potuto esimerti dal pranzo perbacco bisogna aver proprio una faccia di bronzo io non ho una faccia di bronzo ma tu fratello mio mi fai restare a bocca aperta salta su salta su senza perder tempo lascia che venga Vania ci farà allegria in qualche modo si adatterà qua fra i piedi ti ci adatti così Fonzon o non si potrebbe sistemarlo in cassetta col cocchiere salta a cassetta Fonzon ma Ivan Fiodorovic che sarà già seduto al posto suo di scatto senza aprire bocca diede di tutta forza uno spintone nel petto di Maximoff e quello ne fu sbalzato due metri distante se non andò in terra fu un caso avanti rabbiosamente Ivan Fiodorovic gridò al cocchiere uè che ti piglia che hai perché lo tratti così si risentì Fiodor Paulovic ma la carrozza si era già messa in moto Ivan Fiodorovic non rispose ma guarda un po' come sei fatto rimasto in silenzio un paio di minuti ricominciò Fiodor Paulovic sogguardando di traverso al figliuolo sei stato proprio tu a congegnare tutto questo affare del convento tu ti hai soffiato dentro tu l'hai approvato e adesso e adesso ti fai venire le paturnie finitela di mulinare frottole pigliate almeno adesso un po' di rifiato duramente troncò Ivan Fiodorovic Fiodor Paulovic restò di nuovo in silenzio per un paio di minuti un cognacchino a questo punto ci starebbe proprio bene notò in tono sentenzioso ma Ivan Fiodorovic non diede risposta appena a casa ne berrai anche tu Ivan Fiodorovic taceva sempre agli oscia però io lo tolgo in ogni modo dal convento anche se per voi questa sarà una cosa assai poco gradita il mio rispettabilissimo Carl von Moore Ivan Fiodorovic sprezzantemente alzò le spalle e voltandosi dall'altra parte si mise a guardare alla strada da quel momento in poi fino a casa non parlarono più grazie a tutti 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 grazie a tutti